Volevo in te, pensavo solo a te, volevo in te, amavo solo a te, e mi piaci se lo muovi in quel culo bianco, tra le case popolari sopra una lamba e ho bisogno di te, volevo solo te, e queste cose qui, per chi mi conosce lo sa, mi colpiscono talmente tanto, cioè il fatto che ci sia qualcuno, se io voglio attaccare una persona l'attacco e poi non me ne frega niente delle conseguenze, succede spessissimo ogni giorno, recentemente mi ha attaccato, nei giorni scorsi ancora non ho mandato in onda, mi ha attaccato il Cerbero, lui è stato anche da Marra, ma mi ha attaccato qualche giorno prima, per alcune mie polemiche su Sanremo, per chi aveva attaccato, la banalità delle cose che ha detto d'Argent Amico, sulla pace, adesso nei prossimi giorni Marra mi sente, mi sentirà, ma non per il fatto di aver invitato Bavaro, figurati, ma quello ci sta tutto, tutt'altro, ma per le cose che ha detto su di me, ah perché è stato fastidio che ha invitato Bavaro? No, tutt'altro ho detto, mi volevo un attimo presentare Cruciani, comunque fare una roba del genere con Marra significa parlare a un muro, quindi non so quanto ti piaccia parlare dai, non è vero, ma è un personaggio intelligente, ma quando Marra dice, ma un personaggio polemiche, sempre le solite polemiche, un personaggio consunto, non so che cosa ha detto, un personaggio consumato, deve sempre fare di più la polemica, eccetera, io dico Marra, amico mio, io faccio polemiche 5 dispositivi che ti permettono di telefonare e che ti permettono anche di scaricare app utili a ogni qualsivoglia opzione, ci puoi anche vedere video e interi film, è anche un portale su un'altra dimensione, con questo strumento che ho comprato in 5 unità, io vado a non rispondere a una chiamata che non mi interessa, ma lo inserisco altro che all'interno di un a cruciare, ma che stai a fa'? Ricordate che i squali stanno arrivare! Hello! Hello, Shards, e benvenuti in questa nuova, meravigliosa trasmissione! Eccoci qua, sento uno scarico! Eccolo qui, eccolo qui, Kinga, facciamo un grande applauso per il Ducca! Il King della merda! Che dici, Kingping? Ecco, ho fatto una bella cagata, ho fatto, e via, prima cagata del giorno, la cosa più bella! Poi ci dobbiamo rompere il culo a Cruciani, a Flavio Raponi, un po' di gente! Daglielo! Ecco l'altro giorno! Mamma mia, e Simone siamo stati fino alle 6 di mattina a giocare a GTA, siamo stati, e Simone, abbiamo fatto certe cose pazzesche, una cosa che ci siamo detti, io dico a domani, c'è lui che dice a dopo, è corretto lui! E' vero! Sai che ci ho fatto caso, effettivamente, su quell'ultima interazione, che ho detto, beh, effettivamente tra 6 ore, quant'è? Era dalle 6 alle 15, sono 9 ore! In realtà mezzogiorno, perché c'era pure mezzogiorno e poco! Eh, mezzogiorno e poco, bypassato completamente, appena ho visto, sto andando a dormire alle 6, ho detto, infatti quella è una classica, e io lavoro! Ma io, sì, sì! Vabbè, comunque... Mi sono anche, ora devo ammettere che ho aperto... Questa è per estate? Impero, sempre Impero, e... Vecchi arbori! C'è anche Rubino con noi, era tanta artagia! Mi sono tagliato una cifra, è molto divertente, sono entrato, il mio nome è Simon St. Gold, sono un fattone che è arrivato allo Santos in cerca di due cose... Con la tuta gold! Con la tuta gold! Erba e fregna! Quelle sono le missioni di Simon St. Gold! E quindi, che ne so, ho fatto... È l'estensione della vita! Bravo! Vedete, c'è un personaggio con i capelli bianchi e lunghissimi, tipo, come me posso creare? Perché l'altra volta mi ha dato tipo simile, però è brutto, no? Quindi ho detto, una versione di me, tra magari 15 anni, che molla tutto e va a Los Angeles, proprio in cerca di erba e fregna, mi fregava proprio un cazzo di niente, e ha conosciuto Leopoldo, che è Rubino, e io inizierò a dire, insomma... Cioè, perché Rubino interpreta due personaggi, da quello che ho capito, sia sto Leopoldo, che è un ragazzo afroamericano, con tipo un leggero autismo, mi sembra di capire da come lo interpreta. Esantissimo autismo, sì. Esantissimo autismo. Ah, pesante, non... Ok. E Walker, e Walker è il boss, ha tutta la cricca, mi hanno detto che organizza un sacco di riunioni, per consolidare il fatto che è un boss. Ok, ok. E niente, diciamo che per ora io sto entrando nelle grazie di Walker, e vediamo che succede. Che è il sogno bagnato di Rubino nella vita reale, tra l'altro. Sì, sì, grazie a tutti. È sempre con Gianluca, rifondare il partito nazionalista, cioè, è quello. Chitano chi potrebbe essere? Ma potrei venire pure io, quasi quasi, mi stai affapendo in voi. Sì, sì, fa troppo ride. Ti ripeto, ho riso come non ridevo da tanto tempo, proprio per cazzate, mentre giochi con amici, quindi è divertente. Si è affogato una certa, io stavo provando a riacchiappare a mezzo ai fondali marittimi. Simone è affogato, sta tutto morto. I fondali marittimi. Ciao amico dalla Germania, ciao, ciao. Espandi un po' il verbo del Cerbero pure lì, insomma, dai, che devi da fare. Ma facciamo la live magari, poi vi tocca vedere un attimo come si organizza. Sarebbe bello farla tutti quanti insieme, ovviamente. Sì, giocandoci mi è venuta voi a te fa una live, tutti però sì. Comunque fare notare una grande utilità che ieri nessuno ci ha pensato, del tavolino. Se può lasciar qua? Non si deve togliere. E nessuno se ne accorge, non è... Cioè, sta qua. Questo è vero, sta qua. Questo è vero, potrebbe anche, grazie Metal, potrebbe anche essere stato un acquisto ottimato. Vedi? Dipende dalla schiena di Simone. La cosa buona c'è. Stavo a un gobito? Stavo a un gobito, devo prendere tipo un puff che mi siedo per terra. Bello! Alla dojo. Esatto, esatto, esatto. Se sei fuori da inquadratura per terra, vabbè. Poi se inventiamo una cosa, dai, è carino. Compriamo un'altra videocamera più bassa. Solo per il. Solo per il masco. O il tavolino. O mettiamo il tavolino sopra una scatola. Oppure ti compri tipo... Cioè, è classico. Sì, oppure ti compri tipo... Sopra il vecchio tavolino. Sì. Te compri una bodycam. Sì. Il punto di vista del master, capito? Che figo, però, eh. Carino, una webcam sul tavolino. Dovremmo provare qualche cosa, con qualche cam strana, qualche spider cam. Una webcam sul tavolino si può fare. Eh, capito. Per avere altri punti di vista. La pettorina classica, quella di Matteo HS. Sì, bravo. Con il telefono. Una webcam direttamente. Cam Kieb. Sì, sì, qua roba. Dato che siamo qua, potrebbe essere tranquillamente una webcam proprio con il cavo. Mi metto qua e va al computer. Big Moon scrive in chat. Robertone disse che potrebbe anche sostituirsi al tavolo. E disse. Ha detto ieri sera in chat. Robertone propose anche questa cosa molto credibile, molto fattibile soprattutto. Comunque, allora ragazzi, grazie Marco. Dobbiamo rispondere a un po' di persone, però prima, a proposito di tuta gold. Tuta gold, la canzone, perché è tuta gold? Perché parlo di una tuta che è gold. Sì. Dorata. Tuta gold cos'è? Proprio nello specifico. Non sai cosa sono le tute? Sì, però è una tuta tuta gold. Mario Sturniolo, praticamente. Sì, qua è Mario e Faride che gli risponde in questo modo, perché io il testo di tuta gold ammetto che l'ho capito pure dopo che ho fatto la cover, però effettivamente è stupido chiederlo, perché basta leggerlo con un minimo di attenzione e si capisce di cosa parla, regà. Ma ce sta che comunque risponda così, perché è l'artista che lo deve spiegare. Esatto, l'artista poi in generale non deve mai spiegare. No, è anche umiliante, secondo me. Poi c'è un po' cosa dice, c'è un po' cellulare nella tuta. Pure Battiato rispondeva in modo sarcastico, no? Cosa è che tipo, ma cosa vuol dire questo centro di gravità permanente? Che tipo che mi voglio fare la permanente? Sì, esatto. Risposte a cazzo di grazie. Sì, 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 ma ci stava che trolla, ma infatti è impresa bene Mahmood. È una tuta che è gold, non sai cos'è una tuta. Tuta gold parla di un suo amico che spaccia, da quello che ho capito, e che gli dispiace e si allontana da lui. Dice, c'erano nella tuta gold perché è uno spacciatore, avevi i fiori nelle tasche che te li fumavi tutti, dice, cioè te ne fumavi la metà dei fiori che aveva in tasca e c'erano gilet neri pieni di zucchero, cosa che vendeva, cioè sto zucchero nei gilet neri, quindi parla di uno spacciatore che spacciava la cocaina anche e se fumava metà dell'erba che spacciava, capito questo? Ne conosciamo diversi. Sì, sì, parla di un bro. Ma l'hai sentita la cover di Dario Moccia? Ah no. Ma pure Dario Moccia ha fatto la cover? Vuoi mettere un secondo solo, Marco? Sì. Vai, un secondino. Cinque dispositivi che ti permettono di telefonare e che ti permettono anche di scaricare app utili a ogni qualsivoglia. C'è sta, eh? Sì, sì, sì. Questa mi piace. Mi ha ricordato una pagina che mi hanno linkato prima, che volevo linkare, poi mi sono dimenticato, cioè Everything is Italian. Stiamo su Instagram. Praticamente, no? C'è sta pagina che con l'ausilio dell'intelligenza artificiale trasforma canzoni famosissime in italiano. E mi ha colpito perché è una pratica che ho sempre fatto pure io e non solo io, ovviamente, che un sacco di gente fa mentalmente. Cioè che c'è sta una canzone straniera e tu gli cambi le parole in italiano. Sì, 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 lo voglio. Solo che mi hanno linkato questa qua. Usando le parole giuste. Lo che fa girare questo pianeta è la forza primordiale. L'amore. Siamo arrivati troppo lontano per rinunciare a ciò che siamo. Ma cosa è Bini sembra, cioè? È la voce di fare Williams. Cioè è la I con la voce di fare Williams che lo fa cantare in italiano, ma... Sembra ubriaco. Abilità canora. Stelle. Dio mio. È assurdo questo, no? Che l'intelligenza artificiale fa in un nanosecondo quello che noi magari scervellandoci con la nostra reale intelligenza cerchiamo di far pure a tempo perso. Questo ci permette proprio di, come posso dire, non so come definirlo, è tipo una sorta di purga per la creatività che non serve. Cioè per quelle cose, cioè, tipo no? Se mi metto a pensare a GetLag in italiano, uso la mia macchina e la impiego in modo in realtà inutile, se me lo fa un'intelligenza artificiale in un secondo almeno mi posso concentrare sulle cose importanti. Beh, io la penso come te, ma in negativo. Cioè, delegare le cazzate in realtà ti porta ad impigrirti. E tenderei a delegare anche le cose importanti. Perché anche le cazzate comunque, come l'esempio che hai fatto tu, è comunque uno stimolo creativo. Seppur stupido, no? Vero, vero. Cioè, c'è il livello zero. Io sarò fortunato, diventerò fortunato. Che è una cazzatina, però poi magari, comunque ti abitui a certi processi mentali, no? Poi da una cazzatina nasce qualcosa di più grosso, magari. Lì per lì pensi che è una cazzatina, poi... Giochi che uno fa anche da bambino, no? Quando comincia a sperimentare, a curiosare nel mondo, ecco, a modificare le canzoni. Ma ve l'avevo raccontato, pure Leonardo Marra con Sangue. Ah sì, Sangue. Sangue sulla mia pelle. Sì, è un esercizio mentale, sì, di creatività, è vero. A me, questa cosa qui, effettivamente, è anche fatta in modo scadente. Cioè, non si farebbe così una vera traslitterazione. E mi è venuto in mente, effettivamente, mi ha stimolato la creatività in un modo che voglio migliorare sta cosa. E quindi ho iniziato a pensare, come sarebbe in realtà un po' più cantabile, perché questo non è fattibile. E mi è venuto in mente, come facevano negli anni settanta, no? Quando arrivavano le canzoni dall'America. E le plaggiavamo riccamente. Tipo Fiorello. Sì. Sì o no? Non è che le plaggiavamo, ci si metteva d'accordo con i cantatori pure americani. Non era una cosa, un ruba ruba, capito? Pingo Pongo pure De De Sica. Eh, Pingo Pongo Pongo. Ci si metteva da... E appunto, se una canzone come Get Lucky fosse stata italianizzata negli anni settanta, si sarebbero più concentrati, e questa è una cosa che ho notato, no? Sulle vocali che vengono cantate. Se lui dice... Ui! Dice noi, no, ui! Tu non è che fai noi. Esatto. Dici qui. Na na ah, siamo qua. Tu chi va? Ui ah. Tipo na na ah, e fai tutte le cose con la A. Sì, sì. Perché la canzone, lì suona bene la A. È l'adattamento anche musicale. È più importante il suono della vocale, piuttosto che quello che vai a dire. Poi è chiaro che il testo un po' lo modifichi, però... Tipo quella di Fiorello, in originale, era completamente diversa la canzone. Come era? Please don't go? Una cosa del genere? Quella sì o no? Dai, no, please don't go, no? Ah, ok. E quindi ha fatto sta cosa? Sì, quello che dici tu. Io direi andare avanti. Va bene, va bene, ma solo perché lo dici tu, eh? Stanno di storie urgentissime di Rubino. Immagino, dai. Vai. È in chat Rubino, eh? Vai. Che salutiamo? L'ho letto prima, non so se c'è ancora. Dalle sei alle nove facciamo già chatting. Ma questa non è urgentissima, è dei ieri. Ma ormai è con me questa cosa di storia. Ma ormai è con me questa cosa di storia. Ma ormai è con me questa cosa di storia. Ma ormai è con me questa cosa di storia. Ma c'è l'incontro a Molo, Dimmo. Di Vienna. Ma tre ore fa. Grazie Arturo. Pensa te, te non stai a Molo e guarda che brutta figura. Non posso. Lo so, ma non ho ancora conosciuto Walker. Ma è che ieri sera immagino. Mi pare che tre ore fa stanno su al Molo a fare incontro. Infatti, ieri sera. Buongiorno belli mia. Allora, oggi non faccio live perché stasera vado a lo stadio a vedere Roma. No. A Roma. Beh? Niente. Allora, l'arzi. Eh vabbè, me ne farò una mano. Potremmo cercare di prendere in mano la città. Prendiamo il potere. Mi sto per incazzare io. No, no. Vediamo, vediamo. Questa grande urgenza. Come ospite ho portato una mia fan. Stavorto a lo stadio porta l'esfio e una ragazza che ho conosciuto in discoteca. E la prossima volta porterò uno di voi. Dai, dai, dai. Questa è urgente. Yoshi. Questa è urgente. Ma tu, vai. Carino, grande Yoshi. Ma sai che l'ultima era urgente, dobbiamo rivederla un attimo perché... Beh, il ritorno di Yoshi. Ma ormai è un meme perché lo scrivono in ogni live. Storia di Rubino urgente. È questa quella urgente. A me c'è qualcosa con la Smart che si sta parcheggiando sul passo carrabile. Si sta incazzammarra poi. Sta Smart sul passo carraio. Si sta irritato. Grazie mille per i 5 minuti. Oh, grazie. Mandate a fanculo. Teste di cazzo. Dai, allora... Non vedremo più storie di Rubino. No, no, basta parlare di cose interessanti. Parliamo di... I dissing, ragazzi. I dissing. I dissing. I flame. Vari i dissing. Vari i flame. Dai. Allora, Cruciani, due punti. Il Cerbero mi ha attaccato. No, in realtà solo io. Non c'entrano cazzo. Poracci. Premessa. Ieri ho parlato con Cruciani. Telefonicamente. Ma vi dirò dopo. Vediamo prima le stronzate che ha detto. Scherza. Eh, no, perché se no la gente subito... Era quello che diceva. Mi sa pure a rompe Cruciani che mi chiamo. Beppe Cerbero. Beppe Cerbero. Ma questo è l'intelligence. Il brain trust. Ok. Diciamo che... Diciamo che è la nuova piattaforma russo dei 5 Stelle. Eh, una sorta di parlamento di tavola rotonda. Io stanotte, stanotte, queste cose qui, per chi mi conosce lo sa, mi colpiscono talmente tanto, cioè il fatto che ci sia qualcuno... Se io voglio attaccare una persona, l'attacco e poi non me ne frega niente delle conseguenze, no? Succede spessissimo ogni giorno. Recentemente mi ha attaccato, nei giorni scorsi ancora non ho mandato in onda, mi ha attaccato il Cerbero, lui è stato anche da Marra, non è una novità, ma è stato anche là. Ma mi ha attaccato qualche giorno prima perché, per alcune mie polemiche su Sanremo, per chi aveva attaccato, la banalità delle cose che ha detto Dargen D'Amico sulla pace. Adesso, nei prossimi giorni, Marra mi sente, mi sentirà, ma non per il fatto di aver invitato Bavaro, figurati, ma quello ci sta a tutto. Ma per le cose che ha detto su di me... Ah, perché è stato fastidio che ha invitato Bavaro? Ci ha capito un cazzo! Ci ha capito un cazzo! Ma come fai a capire esattamente lo fa? L'unica cosa che ha detto non è per quello, è per quello. È incredibile! No, tutt'altro ho detto! Quando Marra dice, ma è un personaggio, polemiche, sempre le solite polemiche, è un personaggio consunto, non so che cosa ha detto, un personaggio consumato, deve sempre fare la polemica, eccetera, io dico, Marra, amico mio, ma... Era luguro, bel termine, luguro. Io faccio polemiche con chi cazzo mi pare, e soprattutto polemizzo con chi mi pare, ma non con le persone, con le frasi che dicono, io non me la piglio mai con le persone, per questo mi ha fatto male, anche personalmente, devo dire, aver utilizzato un'espressione in un contesto, ripeto, di discussione un po' accesa, no accesa, discussione accesa, di un contesto in cui in realtà mi sono quasi impersonificato in chi lo attacca, capito? Ma comunque... Si è una stronzata. Smettere di scusarti, vedi, pure lui capisce, non te ne paraculaste, andrà bene. Chi lo attacca, capito? Ma comunque, adesso psicologicamente non sto facendo la spiegazione, perché ripeto, sembra quasi che sto cercando un alibi, però devo dire, al bavaro, che mi sono, in queste ore, devo dire che mi sono sentito un po', cioè, non mi sono sentito bene, per questa ho voglia di confrontarmi. Ti è spiaciuto? Coprendo di avere un cuore, questa cosa che cos'è? Cos'è questo senso di... Ho detto, ah, all'amore! Mi volevo un attimo presentare, Cruciani, comunque fare una roba del genere con Marra significa parlare a un muro, quindi non so quanto ti piaccia parlare. Il muro è vero. Il muro è desolato, ah no, sta rite, no, no, niente. Ma si è stato trollare. No, sì, infatti, non l'avevo visto. Niente, non funziona sta cosa. Oh, quella! È colpa di vera. Non so quanto ti piaccia parlare. Il muro è vero. Il muro è vero. Il muro è vero. Il muro è vero. Il muro è desolato. Il muro è desolato. Io, guarda, devo dire che voglio un bene dell'anima a Blur. In quel momento mi è sembrato proprio il galletto del pollaio, perché lui ha trovato, diciamo, il momento per presentarsi a Cruciani facendo leggi, no? Sì. Scusate, mi presentano, ma guarda che parlare con Marra è come parlare con un muro. Magari ci ha pensato gli ultimi cinque minuti a quella frase, quando dirla. Scusate, posso? Ci sono anche io, no? Scusate, effettivamente l'ha detta con un modo proprio servile. Esatto, si vedeva che non era confident. Rivedo, tra le tante cose che mi si possono dire, questa non mi risulta. Forse aveva uno specchio. No, sì, nel senso di impossibilità di comunicazione non credo, anzi. No. A lui in primis abbiamo aperto le porte miliardi di volte, quindi forse c'era uno specchio riflettente davanti. Però, ripeto, è una battuta, per l'amore di Dio, regà. Polemiche, sempre le solite polemiche. È un personaggio consunto, non so che cosa ha detto. Un personaggio consumato, deve sempre fare la polemica. Sì, comunque essenzialmente è questo. Allora, vabbè, devo fare un po' di specifiche. Ieri intanto ho sentito Cruciani, personalmente, perché, insomma, gli ho detto, guarda, ho visto l'intervento. Tu, ovviamente, come è giusto che sia, sei liberissimo di dire quello che cazzo vuoi su De Me. Come al solito, io rispondo di quello che dico pubblicamente. Come tu sei libero di dire quello che vuoi. Esatto, quindi non ti sto scrivendo per farti cambiare idea. Ti dico solo, queste sono le cose che ho detto, con le live integrali, come al solito. Perché, ovviamente, è successo anche di recente con la questione di Rondo e tante altre, che si prendono 30 secondi, 60 secondi, senza tener conto dell'analisi generale. Che poi può essere giusto o sbagliata, però io cerco sempre di dire un qualcosa dividendo bene, no? Cioè, Cruciani non mi piace per questa cosa che ha fatto, si intervista, secondo me, la sbagliata. Però, lo stimo, però è un maestro. Però su questo così, su quest'altro cos'ha. E soprattutto che non c'è mai nulla di personale, tant'è che è successo veramente negli ultimi periodi con una frequenza gigantesca. Addirittura Rondo, il manager, mi ha scritto Ah, ma che è successo? Qualcosa di personale? Ma mi sembrava che fosse tutto ok. Ma non è successo nulla di personale. Perché la gente è convinta che fare una critica ad una persona alla quale vuoi bene, la persona che stimi, la persona che apprezzi lavorativamente, equivalga ad un risentimento personale o dover, non lo so, risanare dei conti di cose private. Perché? C'è l'abitudine dove sempre magari bypassate determinate cose che possono essere critiche e anche l'abitudine delle casse al culo in certi ambienti, secondo me. Quindi un po' uno stile comunicativo così spesso stunna determinate persone che lo vedono come un attacco. Perché voi sfornate la gente. No, vedete, questa è proprio una cosa stupida. Cioè, molte persone hanno paura della verità perché vivono una pantomima e hanno paura costante che anche il solo percepire che sta nascendo una possibile critica neanche l'hai fatta, vanno proprio nel terrore, proprio status terrore, alterato. Tra l'altro un'altra cosa che mi viene in mente è pure Cicalone, no? Cioè, è uguale. Io personalmente ho una simpatia. Ma come? Perché mi hai fatto stacco? Ma pensavo che fosse tutto ok. Ma lo è sul piano umano! Ma non vuol dire che non posso criticare un tuo contenuto, no? Una condotta di una trasmissione. Uguale con Grimbaud. Sono quelle persone che deve andare come dice loro, deve andare tutto come dice loro e la critica ovviamente mette come una sorta di bastone fra le ruote nel loro piano, capito, no? Di quello che vogliono essere per il pubblico. Ma se una critica mira un po' a modificare quello che loro vogliono far vedere, è un attacco all'identità anche. Esatto, però... Ci rimangono male ma a livello di ego, capito? È questa la cosa. Hanno un ego fragile, ovviamente, queste persone. Infatti sono stato contento in realtà... Mi riferisco a Rondo. Sì, ma tanti altri anche che abbiamo menzionato. Però sono stato contento invece di parlare con Giuseppe ieri e fortunatamente invece lui è stato tranquillo. Cioè mi ha detto... Adesso non è che vedevo di quello che ci siamo detti. Però essenzialmente le questioni erano due. Una a Bavaro e un'altra quella a Gary Dargen. Su quella di Bavaro, vabbè, l'avevo già spiegato qua, mi ha detto no, no, ma lì non c'è alcun problema. Io poi gli ho fornito ulteriori dettagli, ovvero... Poi parleremo anche di Flavio Raponi che ha parlato di noi, di questa roba, sempre del Bavaro da noi, e di Cruciani. E poi è una tattica manipolatoria, no? Dirti ma come? Ma siamo amici? Sì, esatto, ma infatti lui non l'ha fatto. Anzi, quando io l'ho contattato mi ha detto guarda, ci sono rimasto male, francamente, perché appunto ti stimo e so che tu mi stimi e quando me lo dice un coglione e non me ne frega nulla me l'hai detto tu, personaggio finito, tipo, lugoro, ci sono rimasto male. Io gli ho detto guarda Giuseppe, mando insomma le cose integrali che ho detto, la mia era una specifica critica al personaggio che tu interpreti quando parli di un artista e dici questi dovrebbero parlare di politica, avete rotto i coglioni, cioè era... Ma la vostra chiamata è avvenuta prima di questo... Dopo, 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 dopo. Cioè io ho detto, quel personaggio lì mi ha rotto i coglioni, cioè quello che devi sempre ridurre al nulla, ok? Qualsiasi, diciamo... E poi abbiamo parlato nello specifico di De Gale e Darje, ho detto, poi gli sono opinioni tue, non è che io ti devo far cambiare idea. Però la mia, infatti nella live integrale c'è, l'ho ripetuto più volte, anche credo giorno dopo con Dave, ho detto, la mia non era una frase del tipo Cruciani è finito come personaggio nella sua interezza, ma non lo penso. Sarebbe stato anche assurdo cambiare idea nell'interezza di un personaggio. Poi non è che lo decreti così. Capito? Poi la conduzione, ad esempio, della puntata con Bavaro, che gli ho detto, per me è stata super critica, e lui mi ha detto, no, vabbè, su quello non c'è problema, l'ho detto pure da Grimba, ho detto, mi sono scusato, ho fatto apposto. Ma certo, ma guarda che paradossalmente è molto più facile e banale criticare una persona nella sua totalità. Eh, ma Marco Chitano è quella, piuttosto che andare seriamente, professionalmente, a vedere una cosa nello specifico. Esatto. Se c'è da criticare qualcosa. E infatti... Però a Blast a Uno sono buoni tutti, regà. Ho voluto precisare queste cose, a parte con lui, ma anche pubblicamente, perché poi ho visto qualcuno, l'abbiamo messo come immagine che andavo, qualcuno dire, ah, sono d'accordo con Marra, oppure non sono d'accordo con Marra, Cruciani in personaggio finito. Io non ho mai detto questo. Non è vero. Questo è quello che dici tu. è banalizzare, capito? Sì, Chitano è, Dudubi è, Marra è, Fedes è, quell'altro è... Artilizia mentale. Esatto. Invece, proprio perché noi spesso ci teniamo davvero a... Analisi, ripeto, giusta, sbagliata, condivisibile o non condivisibile, però ci teniamo a dare tanti elementi, tanti elementi nella nostra disamina... E che la gente vuole il... E quindi... Capito? Cioè, io non voglio che questi elementi vengano rimossi, ma non per addolcire la pillola, tipo la pillola amara ti do un po' di miele. No, è perché è un bilancio. Cioè, sarebbe come dire faccio il bilancio aziendale di fine anno e levo delle voci. E no, non è la stessa cosa. Non è un vero bilancio aziendale. Capito? Cioè, se io dico Cruciani mi ha insegnato tanto ed è un punto magari di partenza, oppure dico la trasmissione comunque è da una vita che sta lì con i limiti della radio e quindi già è difficile, e bla 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 bla, quest'altro ha fatto bene, lì è un fenomeno, però in questa conduzione qui non mi è piaciuto, è esagerato, oppure quando fa questa parte non mi piace perché è un po' stufato, è diverso che dire Cruciani ha rotto i coglioni e deve andare in pensione, no? È una cosa che poi difficilmente esce dalle nostre bocche. Cioè, è uguale, che ne so, è successo con Travaglio sti giorni. Ah, ma come a te non piaceva? Mi piace per certe cose, condivido alcune cose, lo stimo immensamente per la capacità di archiviazione, il fatto di essere molto preciso su certe cose, il suo essere un fan del cartaceo. Cioè, ci sono tanti elementi all'interno di una valutazione di un personaggio pubblico e tutto sto pippone, però, non tiene in considerazione tutto ciò che non è pubblico. Io l'ho detto pure oggi nelle storie, ci sono persone, voi magari lo sapete pure, persone molto influenti che mi hanno fatto delle cose atroci. Ma non è che la mia valutazione pubblica cambia. Cioè, personalmente a me sta sul cazzo, magari. Io lo reputo un uomo di merda. Ma non è che per questa cosa, devo dire, non sa fare bene il suo lavoro. Non è detto, assolutamente. Una cosa, infatti, cioè, tu sei molto professionale e parli dell'ambiente professionale e quelle persone lì che stanno a dipure pure prima ovviamente fanno tutto un miscuglio di personale e professionale. È chiaro che se tu vai e Cruciani non ci dovrebbe rimanere male perché tu non stai attaccando la sua persona, stai criticando il suo operato, anche specifico. Quindi, ripeto, non c'è motivo dipende di essere da quel personale. Ma infatti io per questo l'ho specificato, cioè, intendo, ma pure qua l'aveva accennato, ci sono rimasto male, poi si è attaccato la roba anche del Babaro, che dice, ci sono rimasto male per cosa è girato. Lui ci sono rimasto male perché? Perché aveva visto la clip decontestualizzata. Ah, è certo. Per quello che dici tu. E infatti, anche io ci sarei rimasto male se Cruciani avesse detto Marran, s'affancazzo nella sua interezza. io ho voluto dire guarda Giuseppe che sarei stato un coglione se avessi detto tutto quello che hai fatto non vale in cazzo o dall'oggi al domani sei diventata una pippa. E anche là uno giustamente avrebbe potuto pensare ma quindi che è successo qualcosa? E certo. Che sono nato sul cazzo per qualcosa perché non è giustificabile un cambio di rotta. Non ha senso pensarlo tenendo in conto tutto il nostro storico. Esatto. E infatti quando poi ho fatto vedere tutto ho spiegato ha detto ah ok, allora così capisco poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo? però è una cosa diversa. Sì, sì. E questo deve essere chiaro è uguale ripeto può essere corrondo che me tagliano le parti dove dico sì però me lo sento cioè musicalmente mi piace no? Intanto tagliano tutto. Cruciani si comporta in questo modo perché chiaramente c'è stata una shitstorm cioè lui ha temuto della sua reputazione sicuramente quindi ha chiesto scusa no? Anche questa interazione che ha avuto con te effettivamente è stata peggiorata cioè ovviamente plasmata dal popolino di internet cioè da gente che non capisce un cazzo e sta là come dei hobgoblin solo a a fomentare questo fuoco perché ripeto non capiscono un cazzo dovremmo parlare solo tra tra noi e perché l'intermediario del popolino di internet che rompe il cazzo effettivamente ci peggiora le interazioni l'ho vissuto in questo momento mi sono detto di strae perché c'è sta uno che scrive sub rosso solo messaggi su me che mi stuzzica io mi sono detto di strae per bannarlo della seconda volta in giornata quindi santo cielo appunto se è cruciale questo è per dire sono problemi poi uno magari dice ok stavo a scherzare però mi stuzzica mentre lavoro mi stacca il cazzo cioè qua ho fatto uno screen perché poi sembra che mi ho invento solo messaggio che cazzo è questo schifo bannato due volte guarda cioè io questo mo non lo sbanno più io mo mando il messaggio alla moderazione io non lo sbanno più questo mi distrae durante ogni live ma non puoi sentrò l'ha scritto 40 volte cioè davvero c'è una cosa proprio assurda questo è per dire che non c'è via di ritorno non me ne frega un cazzo che sei abbonato da due anni la gente cosa ha scritto cosa ha detto cosa perché veramente se le marci dentro vabbè nulla di grave ma un accollo diciamo un accollo un accollo io mi distrago secondo me lì non era mi devo difendere perché la marra è così influente che è mobile delle masque no ti dico lì penso sia stata una cosa mi dispiace perché sembra che io abbia fatto qualcosa a marra o che lui si sia incazzato con me sul personale oppure mi abbia attaccato a cazzo perché è impazzito la questione bavaro già è diversa nel senso che effettivamente lì non so se qualcuno magari abbia rotto i coglioni o lui si sia reso conto pure qua sarebbe il processo alle intenzioni francamente non gliel'ho chiesto e comunque non l'avrei detto perché so cose sue però penso effettivamente che anche durante l'intervista che noi abbiamo visto lui si sia reso conto di aver esagerato poi il fatto che magari si scusi ti posso dire sì però a differenza di altri personaggi lui non è uno che si scusa perché ha paura delle shitstorm non l'ha quasi mai fatto tant'è che ci ha tenuto a ribadirlo più volte io non mi scuso mai non mi scuso quasi mai ma l'ho cambiata un po' idea io avevo detto se ricordate bene però secondo me ha ricevuto un sacco di merda magari si è trovato anche un po' costretto secondo me no ho un po' cambiata idea perché l'ha detto così tante volte la cosa che è una cosa sua personale che c'è rimasto male e che gli è credo quindi mo so pure io su sta lì in acqua perché ha detto cose molto più gravi anche se pensate alla questione di Israele cioè nel senso è una cosa molto più pericolosa fare il provocatore con la bandiera di Israele no che di ad un ragazzo sei un ciccione anche perché la sua fanbase l'aveva esaltato anzi ho notato che molti si sono incazzati per le scuse sì ok ho letto un commento sì ho letto un commento su Cerbero Clip tipo Cruciani ha fatto malissimo a scusarsi che poi lì torna il discorso suo cioè quando fa la cosa di Israele non è che sta attaccando delle persone specifiche ma degli ideali delle idee delle frasi che vengono dette in questo caso sì ma infatti pure quando abbiamo visto effettivamente la clip si percepisce pure nel momento stesso una rottura qualcosa secondo me si è reso conto comunque guarda al netto secondo me l'ha guardato negli occhi cioè C'è Bavaro si vedeva che si è proprio stunnato per quanto lui voleva mantenere la gimmick se vedeva nei suoi occhi quella cosa lì secondo me ha avuto un effetto su Cruciani ce l'aveva un metro lo guardava negli occhi ma poi è inevitabile comunque magari ha visto che ci è rimasto male però reggeva comunque botta può essere che ci è rimasto ancora più male perché vedi una persona che sta in difficoltà però sta a lottà magari quello ti potrebbe colpire un po' di più di uno che magari dici si è rimasto male male e basta per uno come Cruciani dico per come abbiamo detto dovevano iniziare il gioco delle parti magari fin da subito lasciando che Bavaro facesse il suo personaggio arrogante in quel caso sarebbe andata diversamente però appunto era super frettoloso l'intervento con Cruciani che sembrava non sapesse chi fosse si fa un piccolo sunto si c'è qualcuno pure nei commenti che ha ventilato un'ipotesi che non è una giustificazione però che potrebbe aver senso come dicevo anche l'altro giorno spesso c'erano tantissimi ospiti che entrano mentre magari Cruciani sta già all'interno della trasmissione quindi magari anche la parte editoriale non gli aveva presentato bene il personaggio quindi lui non aveva proprio basi che non è ripeto una giustificazione perché ti devi informare quanto conduttore però secondo me non aveva basi solide pensava forse che fosse più resistente anche il Bavaro a quel tipo di approccio e quindi anche per quelli che hanno detto lui non si è veramente scusato si è scusa per paracolarsi perché erano quelli che avevano preso le sue difese inizialmente dicendoci siete delle merde walk non si è scusato si è scusato per il termine allora ragazzi è ovvio che lui comunque ha un personaggio che deve mantenere non può stravolgersi dall'oggi al domani e fare provocazioni fortissime e poi il giorno dopo dire no scusato sbagliato con la lacrimuccia no l'ha detto tantissime volte con i suoi modi ovviamente confettandolo in un certo modo e ha detto sì ho sbagliato quell'espressione specifica però in generale secondo me si è reso conto di aver esagerato possiamo dire un piccolo abuso diciamo della sua figura professionale forte e l'abbiamo intuito dalla trasmissione dal fatto che lo abbia ripetuto e se è vero che molti personaggi chiedono scusa per paura delle ripercussioni Cruciani mi sembra l'ultima persona in Italia sì perché non l'ha mai fatto se non proprio forse nel 2006 però cioè veramente ha fatto delle cose assurde assurde no se lo fa è vero è scusato forse mezza volta per una bestemmia di Oliviero Toscani però proprio piccole cose quindi non è uno che pubblicamente deve fare quello diciamo distrutto dagli hater oppure completamente ha reso ha fatto un errore madornale scusatemi io non sono così no secondo me si è reso conto di aver esagerato e ha visto che dall'altra parte non c'era come diceva pure Gianluca la giusta risposta sì sai che è l'unica cosa che ha detto quelle frasi tipiche vuote che si dicono tipo questa cosa non fa parte del mio DNA mi ha ricordato pure quello che ha detto Morgan dopo quindi si è paraculato pure tanto secondo me quando ti paraculi così tanto finisci per dire certe frasi che so mi sapeva ti hai comunicato ovviamente al popolo per farmi la colpa come stavamo a dire l'altra volta non mi ricordo chi ti vuole l'aveva detto cioè il fatto che le scuse erano condite quasi a far passare per chi sta a guardare la trasmissione stavamo d'accordo cioè il gioco c'era anche quello ma infatti voleva un po' paraculare l'ha subito sbugiardato su questo aspetto e poi esatto un'altra cosa le scuse cioè sono brutte scuse perché la conclusione è cioè nel senso io chiedo scusa per dimostrare che non sono una brutta persona ma che sti cazzi non dovresti scusarti perché ci è rimasto male quella persona e basta ma io ridotte pure sul ciccione di merda che lui ha detto la parola che ho usato ciccione del del cazzo di merda e lui ha detto per l'espressione che ho usato quando in realtà il problema stava in tutto l'intervento sul fatto riguardante il peso non nell'espressione cioè se tu levi quel ciccione di merda non è che sarebbe cambiato magari quella è stata la cileggina sulla torta perché comunque è stata più una stonxata rispetto alla battutina del penesepolto al classico sei un ciccione guarda che gambe però esatto ha fatto delle scuse secondo me che per chi ha un occhio un po' più attento fa il gioco inverso cioè nel senso guarda se sta a paraculare quindi non diventano più delle scuse diventa un'altra cosa che tu hai sbagliato a fare io sono arrivato diciamo alla conclusione che sono state delle scuse troppo strane a mio dire se il contenuto delle tue scuse impaurite no il contenuto delle scuse era principalmente io sono bravo che è il contenuto delle scuse pure di Morgan tutti questi qua che fanno uno scivolone e poi si paraculano non si scusano veramente con la vittima è solo uno la vittima so io perché sto a passare per quello che non sono un gue ma vaffanculo tipo io non sono una cattiva persona le persone che lo ripetono costantemente ma guarda sono delle scuse scadenti sì e in conclusione penso che siano scadenti proprio perché deve mediare il personaggio che è sul web l'approccio che ha sempre avuto con la provocazione e con il mantenere una certa fermezza in relazione anche alle critiche o relazione alle sgravate e quindi deve mantenere quella roba lì ma allo stesso tempo un'altra componente che può essere una componente di reale tristezza per aver esagerato reale empatia nei confronti del ragazzo o anche convenienza diciamo ci possono essere vari fattori personalmente questo è un processo di rintenzione ma l'ho detto pure l'altra volta tra l'altro anche questa cosa che è stata ovviamente rimossa personalmente io credo anche da quello che abbiamo visto in trasmissione che lui realmente si sia reso conto di aver esagerato sì sì e che abbia dovuto però buttarla giù in questo modo che effettivamente è bislacco insomma diciamo deambulante l'abbia dovuta buttare giù in questo modo perché deve mantenere il personaggio Crux altrimenti poi la provocazione del mese successivo avrebbe meno mordente no secondo me anche un sacco di fan della zanzara pensano che Cruciani è comunque così pure nella vita che non esista questo elemento di quando uno va a lavorare come noi va davanti le telecamere si attiva no ovviamente la modalità lavoro molti fan in generale ma non con Cruciani cioè chi segue qualcuno su internet o nel tipo il musicista non si aspetta che non so Axel Rose sia Axel Rose anche quando sta da solo ma in realtà poi crescendo magari superando l'età dell'idolatria ti rendi conto che no è uguale a te e quando va su un palco anche lui ha bisogno di fomentarsi non è che è sceso dal Monte Olimpo Axel Rose e chi come lui pure Cruciani l'archetipo che interpreta cioè quello del provocatore della zanzara quello che rompe il cazzo è utile è utile proprio alla società e come ho detto pure nell'altra live è proprio figo che ci sia un programma che dà a una persona del genere che ha questa attitudine il modo di esprimersi nel modo più istrionico che vuole è vero ma a conti fatti è un privilegiato rimane comunque un essere umano che deve proprio affacciarsi agli altri e quelli che pensano che debba mantenere la gimmick anche fuori stanno ancora credo nella fase dell'idolatria sì infatti la grande critica che adesso rimane dato che appunto lui si è scusato brutte belle scusi ok l'abbiamo detto personalmente ci ho parlato lui ha capito e io anche nel senso quindi non è neanche non lo era già prima ma magari lui può averlo pensato il pubblico può averlo pensato non è minimamente una cosa personale zero e in più effettivamente questa cosa che dici tu cioè è il pubblico che deve capirlo sì cioè Cruciani ha fatto già quello che Doha fa è il pubblico che veramente ci ha detto ah ma chi cazzo siete voi per dare lezioni a Cruciani questo tipo di pubblico che rovina a molti l'esperienza di stare su internet esatto e una cosa è bene sempre con Blur ma chi siete voi Blur ha più sub di voi è lo stesso Travaglio ha detto Blur ha più sub di voi ha detto Travaglio no qua parlo del pubblico cioè leviamo ormai i soggetti in questione tanto abbiamo detto tutto però il pubblico purtroppo alle volte fa le veci del creator dell'influencer del politico del giornalista ma facendo il suo male difendono un personaggio che neanche esiste ma anche sbagliando cioè poi c'è una roba che mi ha mandato un po' ai matti ultimamente l'ho notato proprio col buon travaglione il principio di autorità allora il principio di autorità non vale neanche per un premio Nobel che vuol dire se domani venisse in trasmissione un premio Nobel e dicessi una stronzata e tu lo correggessi cioè non significherebbe nulla quel premio Nobel cioè bisognerebbe andare nel merito della cosa giusto? quindi tu potresti aver ragione sulla persona più intelligente della storia dell'uomo no? però purtroppo renderebbe magari superiore a lui oppure renderebbe lui un coglione perché no il punto qual è la percezione delle persone si cambia in due secondi tu puoi essere pure un premio Nobel ma se dici te ne ha cagata per la gente magari sei un coglione no dipende perché dipende da te a prescindere ci sono un sacco di premio Nobel che dicono stronzate che però hanno quest'area di autorevolezza buildata in tutta la loro vita e vai a a sfondare quel velo di maglia guarda che è difficile esatto magari arrivi te che dici la cosa più intelligente ma non sei non hai quel tipo di reputazione sei terco io neppure se dici la cosa giusta sarebbe paradossale no? Mr. Flame che correggia Elon Musk magari anche su un suo argomento di competenza no se però quella cosa è vera puoi correggerlo invece il principio di autorità e la distruzione del principio di autorità che è una anche delle delle regole che purtroppo vedo sempre ormai violare è proprio questa cioè ma davvero voi vi permettete di criticare Cruciani? chi siete voi per criticarlo? nessuno ma tra l'altro è ininfluente potrei essere qualcuno potrei essere meno bravo più bravo in un campo potrei essere l'ultimo cretino che passa per strada ma quella critica non voglio dire neanche vera o falsa perché una critica può anche essere un'opinione e basta ma è sensata è argomentata sì no punto cioè capito ma addirittura ho letto una roba argomenti minutili della terra perché se tu li vai a piaccia sulla logica se noi non siamo nulla per dire qualcosa a Cruciani sei tu per dover parlare altre persone tipo noi ma poi è una logica che non regge siamo il link più vicino poi se vogliamo chiunque può come stavamo di prima siamo la generazione dopo chiunque può avere ragione su chiunque su qualcosa nel senso pure il tizio che dice chi sei tu per parlare di Cruciani ma chi sei tu per parlare a me allora non ha senso quello ti dirà no non ha senso io a te tu lo posso dire è come io lo posso dire a Cruciani se no scusa chi sei tu è l'argomentazione più di ego stupida di identità per rompere i coglioni al prossimo per parlare con la tua identità e farti scudo quando in realtà no rispondendo anche seriamente noi siamo la generazione dopo la zanzara Cruciani è generazione X noi siamo millennial abbiamo assorbito come lui ha assorbito da quelli più grandi di lui e noi stiamo a fare bene o male un po' non la stessa cosa ma siamo in quel filone Cristo di Dio quindi è chiaro che abbiamo anche delle cose nel merito da dire che ci vengono spontanee non è una missione lì infatti la questione del chi dice cosa magari serve per raggiungere elementi tipo il parallelismo dell'intervista a Bavaro semplicemente fornisce a noi più elementi per fare cosa per valutare l'interazione tra Cruciani e Bavaro no che ne so capire alcune tempistiche alcune regole della conduzione di un'intervista cioè abbiamo più elementi però se quelle cose le avesse dette una persona sconosciuta in mezzo alla strada non è che avrebbero preso meno valore no sono ripeto o vere o false e quello è indipendente dal tuo status dal tuo trascorso dalla tua intelligenza dalla tua cultura oppure sono opinioni argomentate o non argomentate e sai cosa ho capito che è comunque mio mia responsabilità usare il mio intelletto la mia ragione per essere comunque il più chiaro possibile nei miei messaggi proprio per andare contro a tutti questi qua che si fanno scudo della propria autorità ma magari dicono frasi orripilanti no? e quindi sì comunque è nostra responsabilità ripeto essere come posso dire il più chiari possibile a livello di comunicatori sono d'accordo ed è un principio che cerco di ripetermi giornalmente ed è il principio che nonostante gli errori che ho fatto come abbiamo fatto tutti mi spinge ad evitare di utilizzare i trucchetti comunicativi gli escamotage retorici proprio perché li sai e li sappiamo ma perché puoi vincere magari quel duello lì per lì e in certi casi potrebbero essere funzionali nel momento in cui il tuo oppositore li utilizza quindi giocate sullo stesso campo da gioco però non mi sentirei bene con me stesso sapete perché ma non perché mi sentirei una merda adesso invece sono il buono perché non avrei imparato un cazzo cioè sarebbe come ricorrere alla scorciatoia no a me fa tutto il percorso più duro però almeno imparo qualcosa no è un allenamento e il discorso con Travaglio è perfetto su questo perché io ho letto un commento ma davvero nel 2024 assistiamo a Marra che vuole dare lezioni di giornalismo a Travaglio questo è proprio il principio di autorità io non voglio dare lezioni di giornalismo a Travaglio stavamo discutendo di una cosa e c'era un minutaggio specifico che era il momento in cui io gli facevo la domanda sui toni ma quindi tu reputi un giornalista in grado di utilizzare qualsiasi tono a prescindere dal suo bersaglio quindi per te è uguale e lui ha risposto beh sì l'unico limite è quello penale per me è una cosa inconcepibile è contro la deontologia è follia anche perché non funziona così un povero Cristo raramente raramente riuscirà a farsi giustizia è anti libertà di parola sta cosa no ma più che altro è un concetto che ovviamente è stupido però non è stupido secondo alcuni poi qualcuno per carità l'ha anche criticato non è stupido perché lo dice il miglior giornalista italiano io sono un coglione una cosa gravissima sono un coglione se il miglior giornalista magari se sbaglia su una cosa allora come la mettiamo cioè non è che quello che ti dicevo è il principio di autorità è anche un principio di poltronismo cioè che quella persona ha quel ruolo là e tu sei abituato a concepirla così ed è proprio è difficile mentalmente scardinare una cosa che hai cementificato cioè lui è un grande è il migliore quindi è quello che dicevamo pure sugli impoltroniti tipo la Sabrina Perilli no? sì cioè ormai è quella Averillona Averillona nazionale sì ok sì ce sta la storia la rispettiamo e proprio per tornare al discorso prima dell'analisi non è che questa cosa cancella le le eccellenti doti di travaglio o le sue gesta negli anni ma non è che le cancella il tuo punto di vista anche il nostro si parte da una base di umiltà una base di siamo alla pari ed è anche se vogliamo quasi un autoscam perché invece quest'altre persone col cazzo che si mantengono umili usano la propria identità come arma e come arma anche scorretta come campana pure che li separa dagli altri invece no la difficoltà di fare sto mestiere e di intervistare qualcun altro e di non essere di non avere bias di non essere un egocentrico del cazzo è questa base di umiltà che stai descrivendo tu benissimo ma anche il guscio banalmente ma questo col fiocchetto rosa vuole insegnare a travaglio le treccine lo smalto capito però è quello ovviamente è livello zero e lo scartiamo però influisce un po' anche quello anche nelle persone meno superficiali un po' ce l'hanno sta cosa che di base partono così però se uno è vestito come me et carus è partito bene secondo loro ok questo qua è uno che potrebbe di cose intelligenti capito quello c'ha o smalto ha ben coglione pure lui recita tanto una parte di quello quello che tu hai detto che noi evitiamo di fare due minuti fa i suoi cavalli di battaglia detto proprio in tre parole immagina passerata realmente con Matt Carus che si comporta così al pub sicuramente ci divertiremo e rispondo anche a Zanni vedete ecco questo è un altro discorso che riprende quello di prima però no eh però devi ammettere che Fedez in quella puntata allora stavo facendo no 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 ma poi tra l'altro stavo facendo un bilancio della puntata no perché sono una persona sbagliata non posso farla è indubbio che Federica abbia fatto degli errori glielo ho detto pure io glielo ho detto una puntata prima ma non era il bilancio sulla puntata attenzione anche qua dovete imparare ad ascoltare ragazzi nessuno sta dicendo bella brutta abbiamo sbagliato a condur intanto non lo posso dire il pubblico se è fatta una sua opinione va bene stiamo dicendo nello specifico il principio di autorità l'ho notato molto con travaglio perché secondo me quella specifica cosa quella specifica discussione è stata liquidata come altre è stata liquidata da lui in maniera indegna e lo dice una persona che lo stima anzi quando stimi una persona come Cruciani come anche Blurre volendo sei portato a sforzarti di più per spiegare il tuo punto di vista e la tua critica e proprio perché non c'è risentimento non c'è frustrazione perché dovrei essere arrabbiato umanamente con travaglio con Blurre con poi sapete che gli attacchi personali anche stupidi non 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 dei travagli ovviamente ma del Blurre deturno anche passati ma lasciano il tempo che trovano non sono una persona vendicativa quindi forse non lo so forse le persone sono abituate a valutare la maggioranza ovviamente a valutare l'interesse di una persona per ciò che li vede direttamente coinvolti è un po' anche il principio della a me mi ha fatto un cazzo per me in grande cosa è utile in cosa è utile per me cosa rappresenta in realtà sempre per me per il mio godimento pubblicate il bilancio da Sdrubbalini ma è pubblico genio del male è pubblico se volete fare i cazzi tu sei stato no 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 ma ragazzi veramente non era una valutazione molti anzi mi hanno detto delle cose belle sono contento ho cercato di fare il possibile ma non era quello era proprio per dire che io vedo queste cose questi bias come dei blocchi come dei blocchi di cemento che ti impediscono il pensiero critico accorgetevi in voi stessi della presenza di questi blocchi che tanto saranno l'ideologia che vanno imposto a religione qualcuno che idolatrate accorgetevi di cosa vi impedisce di avere la mente libera di avere un pensiero critico su qualsiasi cosa anche su noi ma noi per fortuna cerchiamo di mantenerci capito non gimmick sempre in un modo disteso di onestà di umiltà invece altri non fanno così tentano specie in questo settore di Twitch degli influencer tentano di abbindolarvi di farvi innamorare di loro accorgetevene sì sì ma chiudo e poi passiamo al video dei raponi faccio un esempio perché ho qui il Cerbero Podcast clip su TikTok quindi ti lascio indovinare TikTok una bloaga che già scazzatine ha diviso vari discorsi che abbiamo fatto su sta roba qua dei cruciali e i commenti sono questi neanche il caffè diete in gradi di portare al crux guarda che non c'è da vergognarsi a chiedere scusa quando si sbaglia infatti abbiamo detto l'opposto e per fortuna qua Marika risponde infatti non hanno detto questo fa parte del gioco anche le scuse siete voi Babbei Marra Parla non mi interessa poi c'è Guerra Tra Falliti questo ci piace ah questo è il più bello Cruciani va a cena con Salvini Garbi laureato Parenza è un giornalista scrivono entrambi i libri voi vi conoscono i ragazzini ma non chi conta argomento sull'identità sempre la cosa più bassa e anche questo è il principio di autorità esce con gente c'è Marco che avvia Cruciani ma poi l'ha scritto sotto ogni clip guarda l'ha riscritto sotto ogni clip ci ha fatto copia e incolla donna mia ma c'è come se fosse un'argomentazione solida sono fanatici è tipo quello che ho parlato prima sono quelli là che non si rendono conto nella sottica ci ha asfaltato portate l'ottica se pensano capito che stanno a fare una cosa poi non sanno che fanno solo una figura di merda o uno scam perché questo fa una figura di merda quest'altro so due anni che ci paga e ora non potrà più commentare in chat e vi dirò l'asfaltamento l'asfaltamento avviene quando poi ti lasci asfaltare questo in generale dà un commento negativo ah quindi i twinner non ci ha asfaltato no perché noi non ci siamo lasciati asfaltare ma come non è venuto qua ci ha distrutto dialetticamente ma quando c'è sta ancora il ciuccio però molti lo dicono sai che lo stavo a cercare grazie per l'esame mentre l'hai detto stava un po' così questo sta ancora qua mo si è raffreddato è ancora caldo no? no si è raffreddato bisogna molti lo dicono scusa ma lo scrivono nei commenti sarà successo no? te lo teniamo caldo esatto voleva provocarti no no ragazzi allora le provocazioni troll magari in chat ma questo è tiktok cioè tiktok poi tra l'altro c'è il vero clip manco nostro manco c'è l'accesso cioè mo sono entrato perché me l'ha detto già scazzatini mi ha detto ma voglio fare perché ha fatto un montaggio con i commenti prima delle scuse dei cruciani quindi me l'ha fatti leggere lui esatto no? oppure ecco anche questo questi sono tutti figli di cruciani e parlano pure tra l'altro adesso la zanzara è pure più edulcorata non esisteresti senza cruciani vero ma chi ha detto il contrario? esatto l'hai detto ma capito è una cosa ti sta dicendo una cosa che hai detto perché dovrebbe essere un insulto cioè anzi è proprio quello che ci permette di essere critici con amore non è che arriviamo a caso capito? tu più di tutti che lo segui e segui la zanzara ad oggi è un elogio gigantesco ma appunto è un attestato di stima e ci ho ottenuto anche ripeto a rimuovere da questa equazione fraintendimenti personali per questo che poi gli ho scritto perché in effetti si era creato un fraintendimento personale il figlio non può criticare il padre direte sì se sbagli però è una critica che non viene capita perché se uno vede solamente il pezzo che dice il personaggio di Cruciani sembrava nella sua interezza cioè c'è sta pure che uno dice guarda parlavo del caso specifico senza che ripeto quello che ha già detto Davide però questa cosa è pure per eventuali commenti o eventuali persone che magari non hanno visto la live per intero è facile pensare che si parlava del personaggio in toto che se non senti l'interesse quindi in questo caso neanche ci vedo capito questa cosa del c'è e sta che luce sia rimasto male perché non aveva visto l'interesse assolutamente sì infatti immagino che abbia un'idea diversa un po' schiamata rispetto a quella assolutamente sì ma infatti dicono vai a cena fuori chiarisci no no perché perché Cruciani a differenza di testa di cazzo c'ha un cervello se uno gli spiega una cosa gli ha linkata sarà pure vista poi uno ci arriva quindi non è che uno si deve soffermare solamente sulla clip poi per rispondere a uno in chat ha detto mi sono distratto perché non esisterebbero senza Cruciani per un discorso molto semplice di umiltà sempre chiunque ha le proprie influenze anche il Crux stesso ha le sue influenze senza le quali non esisterebbe è normalissimo assolutamente sì e solo chi appunto chi vi vuole far credere che è unico inimitabile è un coglione è un ecocentrico falso bravissimo infatti è un'altra forma di umiltà è riconoscere i propri maestri anche i cattivi maestri non so idoli ma maestri è giusto maestri hai detto bene io noto che anche su Twitch i nostri colleghi hanno difficoltà a dire questo cioè ho imparato da ma anche gruppi di amici che poi si sono separati cioè non si riconosce niente ego basic è proprio una cosa triste quante volte noi abbiamo detto appunto notate se qualcuno proprio proprio cioè si sente del dolore al solo ammettere una cosa del genere guarda hai notato una cosa molti li vedi proprio che fanno fatica devo essere io io ma sì sì a parte che è un principio base cioè nulla si crea dal nulla no e nulla si distrugge bravissimo quindi è un principio inviolabile universale anche per il più grande intrattenitore del mondo no però tutto tutto si modifica ma è una cosa bellissima quello che tu dai l'hai preso esatto lo rimescoli e lo ridai perché tu sei un tipo una centrifuga è una cosa bellissima anche nell'arte nella musica nel cinema tutto si rimescola nel disegno è una cosa falso io vedo pure persone con poco pubblico che però si sentono capito in quella baracchetta lì gli fa comodo essere quelli superiori il re è una dinamica proprio dell'internet è facile che accada anche nella persona più insospettabile cioè voi prendete una persona che dite ma questo qua non potrà mai avere atteggiamenti di questo tipo poi aprite i social fa un piccolo boom nella maggior parte dei casi ci sarà un periodo che cambierà da così a così io me ne sto accorgendo è una cosa fisiologica io l'ho visto proprio su tantissime persone pure le più che io dicevo no beh lui no dai me ne sto accorgendo in tutti i microcosmi che incontro ormai i più sani e i meno sani fateci caso cioè qualsiasi che ne so casa nucleo familiare o ufficio o luogo di lavoro contesto più sano o meno sano ti accorgi delle dinamiche sociali chi è il presunto capetto dove gravitano le persone specie appunto negli ambienti nostri no è proprio è super affascinante e nulla cioè stavo riflettendo in realtà ieri che siamo usciti sul gruppo nostro immaginate qualcuno perché noi eravamo una bolla rega cioè ieri no quando usciamo siamo delle cazzo di bolle gravitazionali e succedono delle cose particolari no cioè se uno sta lì veramente consapevole ad osservare e cioè non è che voglio arrivare a un punto però ve ne accorgete pure voi ovviamente di queste dinamiche se sono tossiche tipo ma vedi qua avverto un po' di tossicume invece in quest'altro contesto si è tutti un po' più loro stessi sono tutti un po' più sereni e io punto proprio ormai a quello anche cioè di creare questa distensione sia qui che in tutti i contesti dove sto io personalmente ci provo ma per far sta bene me e di conseguenza gli altri no no ma è sacrosanto ripeto infatti non lo so a volte anche riconosce prima parlavi del genitore no? è brutto quando in una serata no? di 30 persone tutti si accentrano su uno cioè perché magari quello è percepito come sto cazzo è proprio brutto e vanno abbattute queste cose pure per famicizia stiamo nel mondo reale regà a me sono cose che dà fastidio vede in generale ma mi dà ancora più fastidio proprio a livelli inimmaginabili se quell'uno penso di essere io bravo bravo io voglio abbattere queste cose tipo ieri una certa me ne sono nato ieri da solo perché si era creata un attimo la cosa che è proprio la cosa classica di qualsiasi gruppo di amici che aspetti che parte il primo per partire tutti il gregge a una certa dopo altre cioè nel senso oh ma quando andavo oh ma stavano oh ma stavano ho sentito una pressione tale che ho preso e me ne sono nato solo sono uguale sono uguale a te sono partito solo me ne sono dato via sì sì perché sentivo la cosa che dovevo comunque portare il gregge un po' no? ed è una responsabilità che io non voglio non ho mai voluto fin da quello sono piccolo quindi tendo poi a escludermi e andammene per cazzi miei non voglio responsabilità di questo tipo no ma anche perché quando te le vogliono guarda ma pure quando ero piccolo che magari uscivo con i miei amici che magari oh che famo stasera e magari che ne so dovevo essere io quello che dovevate l'idea un disagio disumano io sono molto più vabbè mi conoscete ma da una rotonda scegli insieme sono molto più scegliete voi che per me è uguale sì sì cioè dove avevo io la cosa di dove guidare oppure dove essere la cosa centrale mi manda né né il pallone più totale e quando vedo che è un altro mi infastidisce un po' la dinamica perché secondo me deve essere così no sì sono d'accordo una cosa che accade a qualsiasi gruppo ma pure chiunque ci stasse qui che magari escono con gli amici loro sono dinamiche umane pure le scimmie sono così è una dinamica umana bisogna osservarle secondo me c'è modo di farlo per farti capire cioè che sono tipo dieci minuti che non parlava e la gente dice chi non parla e gli faceva ride ma in tanti l'hanno scritto allora ho detto vabbè aspetto altri due o tre minuti hanno continuato a ride sempre di più del fatto che io non parlavo non so perché gli faceva ride ma che ne so gli faceva ride gli faceva ride che non stavo intervenendo stavo a leggere un attimo che stavano a dire eh questa è appunto è la dinamica di prima di quando tu ci sono lasci al pubblico il potere di influenzarti e di comandare la tua attenzione e di deragliarti è quello che stavamo a di prima effettivamente no sì io non cioè non è che non ho parlato per quello stavo a parlare a voi spesso è così sono dieci minuti di silenzio li ha agitati non lo so perché a te ti ha agitato no mi diceva la discussione di ieri non stai muto non stai muto quello era il fatto è per quello sì è per quello Marco è annichilito perché ieri l'ho asfaltato sì ti ho asfaltato ieri vediamo un incredibile video di Flavio Raponi facciamo chiarezza se ha il tuo ego fa bene Luciani sei stato un po' stronzo però se appena notte riesci a dormire bene se te fa bene fallo non ho capito che sto facendo perché non hai seguito i discorsi ok dai vediamo che cosa è successo con questo lo evitiamo da giorni alla fine lui ha fatto te tutto per venire qua Raponi detto questo piccolo preambolo piccolo preambolo Flavio Raponi youtuber che parla di bodybuilding diciamo fitness in generale influencer di questo mondo bla 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 nella live con il buon Bavaro il buon Marco Chitano tra l'altro ha citato il nome di questo Raponi perché Bavaro ha fatto riferimento a lui in una sorta di chiamiamola disputa ecco con chi ci aveva quando ha detto eh ma se quello ho beccato spesso in due c'era con Marco è calla perché essenzialmente no no scherzo ovviamente ma che ma no ma no e quindi appunto cosa era successo questo personaggio il Bavaro che era esploso sui social aveva ricevuto eh varie proposte compresa quella di Flavio che da parte di Bavaro non era stata accolta bene quando Bavaro è venuto qui l'altro giorno ha detto no però Flavio Raponi essenzialmente voleva un po' utilizzarmi per fare visual questo era il sunto io poi in realtà non avevo visto il video in questione infatti l'ho detto lì per lì a parte che il Bavaro è arrivato avete visto a live in corso quindi l'ho saputo cinque minuti prima di iniziare la diretta durante il countdown quindi non è che c'eravamo preparati però lui ha detto questa cosa io genuinamente ho chiesto ma in che senso cosa ti aveva detto Flavio Raponi era stato critico con te e lui l'ha un po' diciamo così dicendo no no lui non si è comportato bene Gian invece un altro ragazzo mi sta seguendo e ok vediamo che cazzo c'ha da disto Raponi vediamo un attimo che è sta cosa oggi userò il nome di Bavaro nel video per farmi qualche visualizzazione che bello ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio perdonate la mia piccola assenza ma mi sono permesso una vacanza allora il video di oggi verrà suddiviso in due parti il primo dove andremo a commentare il video della zanzara che mi avete consigliato in moltissimi e la seconda parte che è importantissima perché devo chiarire delle cose di estrema importanza è questo dura sei minuti vediamo dottor Bavaro un messaggio per lei ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio allora navigando su tiktok mi sono imbattuto su questo ragazzo io so che il ragazzo sta andando virale per la sua condizione fisica una condizione fisica molto preoccupante guardiamo questo video insieme e poi commentiamo mentre il commensale mi prepara la pasta e patate ragazzi la mia con la patatrice mi crea il parmigiano per metterlo sulla pasta e patate possiamo? certo caro vai vai ragazzi ovviamente questa preparazione è molto scenica è una preparazione che solo io posso permettermi gente è arrivato anche l'applauso com'è? a te dopo ci penso io però bene non trovavo non trovavo le piace questa patata? caro è addirittura più buona delle mie carissimi ovviamente la patata è piaciuta ma le migliori le tengo più con me adesso ci saranno molti commenti che scrivono ma come è fatto ad entrare in macchina quanti posti occupa eccetera eccetera e già il fatto che tu li fai leggere e li dici è qualcosa già c'è un intento palese in questo video non voglio assolutamente bullizzare intanto però i commenti sulla stazza li abbiamo non solo fatti vedere ma addirittura pronunciati però non lo facciamo capito? lui se sente in colpa dirà perché chi lo fa sono persone del mondo della palestra quindi lui è come l'ambasciatore di tutti quanti da quanto ho capito che bello senti metti in play me lo dice vabbè andrei in giro questo ragazzo anzi io mi scuso con te se non so hai ricevuto insulti che ti hanno fatto e mentre ti scusi li metti là sul tuo cazzo di video oh ma sti palestrati che hanno imparato a parlare oh cioè veramente siamo di fronte a una nuova specie la persone che fanno il nostro campo ovvero quello della palestra cioè veramente qua ne abbiamo perlomeno un esemplare buono sano demente ma più che altro questo è un altro principio secondo me molto stupido no? tipo chiedo scusa per la mia categoria sì sempre detestato chiedo scusa per a nome di tutti gli uomini in quanto uomo mi scuso perché non sono tutti così oppure ne so in quanto italiano cioè un conto è che ne so vergognarsi di uno stereotipo che viene venduto perché non è reale anche qua uno potrebbe dire però l'ha presa un po' diciamo tirata no? cioè ha detto ma alcuni commenti potrebbero provenire dall'ambiente del bodybuilding del fitness quindi mi scuso vabbè ma se non è stato lui personalmente per me non ha molto senso è una roba secondo me ininfluente però vabbè un altro video dopo commenteremo in carissimi schienzo fatiche dato che oggi è Natale mi verso nelle c'è capito e mentre fa vedere video continua lo slideshow di commenti insultanti che si mettono per rendere il video più scorrevole no? più edgy però io sto leggendo degli insulti in questo momento no? c'è tanta gente che pensa che ci sia un problema grave quello vuole far capire tipo non me ne so accorto solo io ma sentiamo perché c'ha sto sguardo preoccupatissimo guardando questi video che in realtà a me mi fanno ride non capisco questa discrepanza lui dice che lo seguono per insultarlo insomma solo per la sua situazione lo fa perché gli vuole bene sì lo fa perché gli vuole bene ok è un gioco molto facile prendiamo una persona qualsiasi prendiamo solo i commenti dove lo offendono li facciamo vedere li facciamo leggere diamo supporto a questa persona e ci scusiamo pure per chi l'ha insultato ne esci come uno non capito che non l'ha insultato ma come uno che l'ha difeso buono il buon samaritano è un gioco facilissimo che si può fare su chiunque ma finiamo vabbè questa è la mia opinione solo sul piano comunicativo non è Raponi l'hanno fatto 3.000 prima di lui io non so quanti anni ha e non so anche come si chiama se conoscete il suo nome scrivetelo nei commenti per favore per quanto riguarda il peso super giù ragazzi possiamo dire tranquillamente ovvero io posso dire penso che è presa sopra i 200 kg e per quanto riguarda l'età perché ci avrà 20 anni non di più se mi sbaglio una cosa si può dire quindi è un video fatto proprio in fretta e furia cioè se vuoi fare un video e dare determinate informazioni anche perché comunque lui è molto seguito cioè non sai il nome non sai quanto pesa non sai quanto è alto e spari queste illazioni la peserà dai video dove sta seduto in macchina sui 200 kg ma a che serve sto video per questa cosa che ci posso pensare pure io fino adesso nulla fino adesso nulla non sta aggiungendo niente ho solo visto insulti niente a Bavaro appunto dico vediamo per il momento non ha senso comunque ecco correggetemi nei commenti l'età pure si l'età fa 25 anni ma si perché se uno spara a caso ovviamente può andare vicino come no però che senso ha un conto dice che appunto stai live vedi una cosa te la mandano è un video montato preparato pubblicato messaggio per lei per intero ci possiamo rendere più conto alla fine dite gli offre aiuto ma non riuscite a capire madonna vabbè vediamolo fino alla fine dai oddio che faccio della sua condizione fisica eccolo qui come dicevo io suppongo che lui pesi più di 200 kg 20 anni altezza non lo so 1,70 massimo 1,73 barra 74 non di più bavaro diciamo così non so come ti chiami per favore scrivimi su Instagram dimmi il tuo nome voglio dirti questa cosa qui adesso tu stai andando virale ovviamente stai facendo i numeri sei contento eccetera eccetera e questo lo stai facendo solamente per la condizione fisica te lo posso assicurare perché non stai facendo nulla di nuovo per quanto riguarda food blogging eccetera eccetera al diretto interessato questa è già una se intensa tu sei diventato virale perché pesi 200 kg questo ha detto lui lui l'ha detto eh lo so l'ho appena detto secondo me è una cosa inesatta il dottor Bavaro funziona sui social ovviamente per la sua forma fisica ma anche per ciò che fa per il suo personaggio per la sua ironia a me fa ridere ma se vede che non l'ha mai visto cioè il semplice fatto io sono preoccupato perché così puoi rischiare di morire cosa che poi ti può dire chiunque pure uno che ti vede per strada quindi lo sanno tutti è scortesissimo andaglielo a dire lui lo sa benissimo e in più gli è stato io vorrei che tu dimagrissi però ti dico che se tu dimagrisci non hai più nulla sei finito non potete sapere se è vero o meno ma state nella testa delle persone chiunque ha scritto è vero dovete guardarvi allo specchio e dire mi sta simpatico mi fa ridere perché pesa 200 kg allora non dovete parlare per gli altri voi che cazzo ne sapete fate aprire l'unico motivo perché questo è seguito secondo voi è per il suo peso in testa vostra che lo scrivi perché lo sai perché se lo scrivi penso che lo sai fate aprire TikTok alla vostra panzona di vostra zia di 200 kg e vedete se anche lei fa 5 milioni di visualizzazioni se basta pesare 200 kg a voi esemplari capito come la cosa ingrassamo tutti diventavamo tutti antivirali non è una critica sensata semplicemente punto non è una accurata lettura della realtà del personaggio Bavaro punto andiamo avanti Bavaro tu sei molto giovane e ti trovi in una condizione di estremo pericolo non ci vuole uno come me per dirtelo qualsiasi dottore sulla faccia della terra ti direbbe che tu sei in una condizione fisica di estremo pericolo rischi addirittura la morte ti trovi in una situazione dove stai andando virale e ti piace questa cosa però qui c'è un enorme problema per quanto tempo riuscirai a farlo ho visto che sei molto circondato da tantissimi avvoltoi fai molta attenzione di chi tu ti circondi perché vogliono solamente visualizzazioni ti stanno usando perché se questi fossero reali lui che fa sta cosa e fa sto video e si offre di aiutarlo boh io io veramente boh adesso ho già un bilancio più chiaro del video poi magari lo cambierò allora è indubbiamente un modo per fare facili visualizzazioni non si è informato minimamente ma vuole parlare di tutto ha ventilato ipotesi soppeso altezza cartella clinica motivazione del suo seguito ma non solo addirittura persone vicine cioè tu non sai neanche come si chiama tu non sai neanche come si chiama bravo sì e addirittura dai per scontato che tutti vicino a te siano degli avvolto ma che cazzo ne sai le cose urbili non sai neanche come si chiama poi alla fine si offre lui non sai niente cioè è un modo ma si vede proprio perché l'ha fatto veramente dico l'ha fatto proprio in fretta e furia e non è guarda non è un modo per anche lì no è la cosa che dicevamo pure a ciccio gamer suggi schianto dire pubblicamente quante visualizzazioni c'è a sto cazzo dei video io non voglio dire una cosa scontata 340.000 visual ad oggi no cioè dire pubblicamente davanti a 340.000 persone tu stai per morire la condizione fisica è quella che è ti stai facendo del male ma ma veramente ma non lo sa ma non ha una famiglia c'ha 25 anni a cosa serve dillo pubblicamente niente serve soltanto nel caso in cui qualcuno mandi dei messaggi sbagliati guarda io la so vedete così è tutta una mossa strumentale per per guadagnarci lui il più possibile sfruttando quello che c'è alla fine mi sembra questo anche perché lo stesso giorno e non è un vero cioè tu quando fai un qualcosa ovviamente il tuo intento profondo per quella cosa specie un'opera d'arte che per me i video su youtube lo sapete per me sono opere d'arte no e possono esserlo o comunque sono opere di creatività se la tua opera di creatività è c'ha questa tossina che è proprio il tuo egoismo e solo il tuo personalissimo tornaconto si vede e in questo qua dato che alla fine c'è secondo me il suo obiettivo se è quello di avvicinarsi al dottor Bavaro perché fa tante visualizzazioni è quello di cerco in qualche modo con le mie parole quelle che ho ovviamente non quelle che non ho di arrivare alla conclusione che quelli attorno a lui non vanno bene stanno lì solo per sfruttarlo il mio obiettivo qual è? diventare il suo personal trainer no? questo non lo so ma se ha detto che alla fine volevo diventare il suo coso magari ho detto che io prima di palestra ma comunque vuole un tornaconto che il dottor Bavaro ecco ma neanche ovviamente per la vita capito no? si è inventato una cosa che una sponsor di tre mesi da dottor Bavaro che ora è virale è una cosa solo architettata per il suo personalissimo tornaconto che poi non gli andrà come vuole ovviamente però l'intento secondo me sì processo alle intenzioni totale da parte mia è questo più che altro ripeto come diciamo per ciccio gamer penso che queste siano cose sensibili una persona che lavora anche in questo settore che immagino abbia avuto a che fare quantomeno con disturbi alimentari insicurezze di un certo tipo non può dire pubblicamente queste cose qua se non c'è un reale intento cioè se tu volessi criticare un influencer che veicola dei messaggi dannosi ad esempio sull'obesità penso a Nico Avocado che ne so che è super virale in America c'è chi l'ha criticato per altri aspetti lo spreco del cibo quella condotta di vita lì tante cose l'autodistruzione davanti alla camera alcuni discorsi sono stati fatti anche su Gischianto stesso però il dire di ciccio gamer ai tempi tra due mesi muori pubblicamente è un atto egoistico e potenzialmente dannosissimo che non può fare nulla di buono per quella persona ciccio gamer che aveva detto tra due mesi muori a Gischianto a due anni mi ricordo cos'era infatti lo criticammo all'epoca perché se Raponi veramente vuole bene a questo ragazzo gli scrive in privato cosa che infatti ha fatto l'altro Gian che gli ha scritto prima in privato poi ci ha fatto i video insieme come verso un tren tu gli scrivi e cerchi veramente di interessarti al fulcro lui è interessato a questo ragazzo è interessato alla sua salute questo non è il modo non è il modo per tutelarlo ma non lo è in nessun mondo anche veramente se lui fosse mosso da compassione da una virtute da una proprio da un intento più che nobile questo è il modo peggiore e non è uno stupido se sei mosso dalla virtute chiamiamola così non hai questi intenti banalmente ma lasciamo perdere io invece non vi sto a fare un processo di intenzione è meglio o peggio però già lì il processo iniziale è gli scrivo in privato capisco poi può essere un doubt adesso io te faccio da personal trainer io faccio un lavoro io faccio un lavoro faccio un lavoro da personal trainer tu mi sponsorizzi cioè può sta però non lo esponi alla pubblica cogna in questo modo che cos'è questo ragazzi oggettivamente è un video che serve al dottor Bavaro no serve a lui ma l'ho detto allora il processo la nostra intenzione è reale Cristo Dio no no ma io dico analizzato in maniera fredda questo video secondo voi può avere un effetto positivo per il dottor Bavaro zero negativo può avere un effetto positivo per le persone obese no negativo per il dottor Bavaro positivo solo per lui stesso perché fai 350.000 views tutte cose che già sappiamo cioè immaginate solo la scena che tu stai vedi una persona molto grassa obesa a livello grave al McDonald che mangia tanti panini e te te senti in diritto dannagli a Dio sai che mori che così rischi di morire pesi 200 kg ma chi te conosce ha uno sconosciuto si può fare questa cosa davanti a 300.000 persone può fare anche in maniera più dura se un obeso al Cerbero Podcast ogni giorno dicesse ma che cazzo vanno detto i dottori fino ad oggi io ho il colesterolo da paura peso 250 kg ma sto in salute sto in a crema io mangio 50 Big Mac al giorno e vi assicuro che da dati medici che ho alla mano non ho problemi fisici ha toccato tutti i check della persona finta buona che con il bene finto ti vuole aiutare cioè prende parola di autorità di dottori immaginari esatto scusa stai un attimo Marco problema numero uno proprio problema numero due dire morirai con finta compassione che ha utilizzato pure Ciccio Gamer per quello è molto greve stai per morire ma te lo dico perché ti voglio bene però questa persona sta per morire guardate fate qualcosa aiutatela guardatela è una gogna punto mediatica però si può fare una critica a Raponi senza fare la stessa cosa al contrario quello che state facendo voi serve a Raponi sì è una critica costruttiva attenzione no ma c'è un no attenzione c'è un principio molto importante amore mio questa mica non laiba aiutiamo Flavio Raponi non è che noi stiamo condendo i nostri discorsi dicendo questo farà bene a Raponi potrebbe come no a noi non interessa ma in questo momento mica interessa a noi non interessa di Raponi interessa al pubblico che si beve determinate cose cioè lui ha impostato il video con fermi dottor Bavaro ho un messaggio per lei guarda che questa cosa ti fa male guarda che io ti posso aiutare guarda io non sto dicendo Raponi adesso dopo la nostra live sarai migliore potrebbe come potrebbe essere il contrario qua il focus è un altro non c'è il piagnisteo del oh facciamo i bravi che cazzo di discorso è ma poi mica lo metti cioè in questo modo non è che stai attaccando un qualcosa che è dell'identità di Raponi stai attaccando quello che ha detto il modo in cui ha costruito un video mica ha fatto una critica ai video del Bavaro sono diretti male sono magari qualcuno l'ha anche detto inneggiano all'obesità però non lui io rispondo per me stesso ciò che mi muove a di queste cose a infervorarmi a guardare questa cosa con attenzione ripeto è la passione che ho per quest'ambiente ciò che mi muove è voler rendere il contesto internet perlomeno in Italia o nel mio micro contesto un po' meglio un po' più gentile educato sensibile è questo che mi muove quindi se vedo una cosa del genere non è contro di lui è un po' i contesti che si creano per colpa appunto di ego di bias di incomprensioni che dividono le persone non le fanno ragionare è così che la vedo io non è una cosa contro di lui è una cosa perché ci tengo all'ambiente in cui lavoro e anche dove lavorano gli altri ma infatti anche bersi diciamo delle ampliamo il discorso da Raponi bersi dei giochetti che possono essere nella costruzione di un video in una discussione fa male anche al pubblico perché a un certo punto uno diviene anche schiavo di meccanismi fuorvianti e manipolatori l'abbiamo detto prima su le trappole comunicative o la costruzione di un video manipolatorio allora uno poi diventa schiavo come pubblico cioè tu alla fine inserisci nell'equazione pubblica del web in questo caso dei codici malsani esatto pure l'arte del dibattito pure quella ci muove molto perché si può discutere bene senza affossare perché uno pure per tornare al discorso iniziale di quelli che temono le critiche perché probabilmente nel loro micromondo le critiche sono sempre state tu non capisci uno cazzo va a lavorare coglione che sono critiche no però capito e magari in loro in quelle persone ritorna il papà arrabbiato con la cinghia ma che cazzo ne so però è questa la cosa nostra la critica con amore perché parti da una base di passione e di amore con interesse sì passione è un bel termine passione per il dibattito passione per la discussione certo ma appunto è come elevare una discussione da colpisco il tuo punto debole il tuo difetto ti faccio male sì ma questa cosa è una cosa giusta no e quindi la puoi anche vincere la discussione al baretto o dentro le mura di casa come giustamente detto se tocchi il nervo scoperto di tua mamma di tuo fratello o del tuo amico o della tua ex ragazza però non migliori come essere umano ovviamente e poi giustamente quando succede a te ne soffri no sì sì devi rinunciare a delle parti di te è come se che ne so ti accorgi cioè che ne so vuoi far ragione a uno che è razzista magari tuo zio e dice vabbè mi metto con lui perché sento che può ragionare su questa cosa lui tuo zio razzista se vuole veramente intraprendere questo percorso di cambiamento dovrà soffrire perché fa male rinunciare a una parte di sé e la difenderai come parte della tua identità è il principio dell'allenamento cioè tu devi vincere la pigrizia devi vincere il dolore magari mentre fai non lo so una scalinata infinita mentre corri devi vincere l'ozio devi vincere il fatto di non strafogarti visto che siamo in ambito fitness cioè è quello è vero è una forzatura è un impegno ma anche banalmente nel leggere leggere un libro o ascoltare veramente una canzone o vedere realmente un film è un impegno è un atto sacro certo ma richiede un impiego di energie no? invece fare l'insulto sul personale no? non è non è difficile no no è becero e spesso poi così poco banalmente quando tu vai a insultare una persona e si cade veramente nel turpiloquio sono due realtà come posso dire due sofferenze loro che interagiscono con la sofferenza dell'altro non so come dire molto spesso infatti si dice in realtà tu non stai insultando me ma stai parlando di te stesso sì sì è la tua sofferenza che parla e sono due realtà entità divise che si stanno solo sfogando delle brutture loro interne l'esempio più grande che abbiamo avuto qua è Sabba cioè Sabba insultava tutti con cose in realtà completamente sue sì era proprio un'introspezione che veniva fuori no tutta quell'oscurità è dentro sì poi è proprio specifiche poi amici tuoi farebbero di tutto per farti capire del pericolo che tu stai correndo se tu eri amico mio dico reale amico mio un vero amico mio io ti stavo al collo dalla mattina alla sera per farti capire del pericolo che tu stai correndo io avrei fatto di tutto per portarti in palestra io adesso parlo di palestra perché questo è il mio campo io mi occupo ti avrei bloccato che ha collo incredibile anche questo è sbagliato sì che amico è infatti anche questo è sbagliato nel senso che è triste da dire ma le scelte così importanti è sempre voler fare il buono ma per diciamo comandare mi sembra le scelte importanti di vita soprattutto in merito a dipendenze o condizioni di un certo tipo le decidi solo tu per quanto ovviamente le persone vicino a te devono fare il possibile per aiutarti finché tu veramente non cambi non esci cioè da quella situazione cioè tu non non perdi 120 chili se non se non ti convinci al 100% di volerli perdere non esci da una dipendenza da eroina perché il tuo miglior amico purtroppo te sta sul colo poi in certi casi ripeto il supporto l'aiuto di amici familiari è fondamentale cioè diventano veramente delle fondamenta per te ma purtroppo è un approccio spesso anche che crea più chiusura dall'altra parte quante volte magari sarà capitato pure a voi avere un amico depresso un amico che te porta pure a fanno voglia ragazzi ma l'esempio classico io l'ho visto purtroppo con molte ragazze in condizioni di anoressia cioè ma tu veramente vuoi metterti al collo di un'anoressica ogni giorno ma magna 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 quanto sei secca io so amico tuo magna questa mela gliela metti in bocca quella sai che fa magari davanti a te lo fa poi se sente ancora più in colpa perché non ha interiorizzato quella cosa non ha veramente accettato il cambiamento va e se ficcarte di te in gola poi magari diventa pure bulimica oppure se fa 700 giri del palazzo finché non si consuma non casca a terra cioè per aiutare una persona serve una dose infinita di compassione di empatia di amore in più alle volte quando ci sono sostanze esterne è anche una questione proprio tecnica cioè vai magari in crisi di astinenza no? quindi non funziona così però guarda che proprio quello che dico io cioè agire con empatia e con compassione rispetto a una persona è una cosa scientifica proprio che altera i tuoi e i suoi equilibri chimici e tu devi saper porti in quel modo lì assolutamente ci accedi da dentro di te per esempio un modo per star vicino ad una persona veramente che vuoi aiutare è avere un approccio diverso da questo qui cercare di aiutarlo nella ricerca di quegli strumenti questo devi fare cioè esempio sui social io spesso ho visto effettivamente non so se sia l'esempio il dottor Bavaro potrebbe anche essere però ho visto delle persone con disturbi alimentari che ovviamente andavano virali su tiktok no? o con altre problematiche no? potrebbe essere una dinamica tossica quella perché? perché molto spesso quella ricerca di attenzioni tu anzi quella quella risposta di attenzioni tu la hai perché ti mostri in quella condizione quindi potresti forzarti mentalmente nel mantenere quello status e mantenere quel tipo di reazioni però anche qua cioè servono veramente delle visite psicologiche psichiatriche perché perché per molti potrebbe essere il contrario cioè non è un rapporto causa-effetto del tipo l'anoressica che si mette sui social riceve tanti like può riceverli anche però nel suo percorso di guarigione da quella condizione quindi potrebbe essere un qualcosa di positivo è quello che dico sempre sull'approccio brutale di un personal trainer o di un dietologo nel dubbio non si deve fare perché tu non puoi prevedere le reazioni è come un tentativo prova-errore su un esperimento però senza diciamo casi studio si dovrebbe anche ascoltare le richieste del cliente magari lui ti dice stammi sotto ho bisogno che tu mi stia col fiato sul collo ci sta perché anche il cliente che decide anche l'approccio non è che da personal trainer puoi fare l'arrogante e dire no l'approccio per te è questo qua questa è una cosa arrogante anche perché lui lui dà per scontato che nessuno nella sua vita gli abbia detto niente cioè magari io non lo so tutti quelli che è attorno io non lo conosco il bavaro quindi io non lo so i suoi genitori come stanno agendo come hanno agito i suoi amici il medico che cita qualsiasi medico ma che cazzo ne sai Flavio non sai manco come si chiama cioè questa è una cosa problematica tu non puoi sapere ma come se qualcuno venisse da me davvero e mi dicesse oh ma tu ora sei vigoressico perché il tuo fisico ma tu che ne sai alla base c'è un giudizio del sentirsi superiore ovviamente proprio alla base delle fondamenta di tutta sta costruzione cioè tu guardi Bavaro no prima cosa che pensi ciccione e sono meglio di lui e poi ovviamente cioè questa è la voce più basic diavolesca che abbiamo poi ci inventiamo tutti i giri di parole per poterlo dire no no devo dire che gli voglio bene devo dire che sto facendo vedere i commenti qui sotto perché lo voglio aiutare ma in realtà tu stai agendo per io questo ci vedo gli ha pure detto che lo seguono solo per la sua condizione non porta nulla di nuovo l'ha detto chiaramente sta cosa allora a livello di contenuto per essere onesti non è che porti in conto uno gigantesimo ma io l'ho detto pure altro giorno ma è venuto io l'ho detto però c'è un monio beso famoso no ma no ma è ovvio cioè nel senso è il suo discorso tu non puoi avere la certezza di sicuramente ma l'ha detto pure Simone sicuramente è ovvio che il guscio e il personaggio che interpreta anche grazie a quel guscio no faccio un esempio sì ma se sei preoccupato del fisico di una persona non gli dici proprio tu l'unica cosa buona che c'hai è la tua obesità capito vabbè ma non era proprio così dai nel senso io l'ho vista più come però se sei preoccupato da uno che ha un disturbo alimentare però secondo me non intendeva quello io là l'ho visto più come magari tu adesso non ti rendi conto che è comunque una presunzione no io l'ho vista più come non ti rendi conto che ti seguono solo per questo occhio a mantenerti grasso per i follower ma poi sta cosa ti seguono solo per questo se ci fate caso io l'ho sentito a dire da gente che vuole comunque in seguito non da gente comune ma gente che cerca followers quindi è sempre una critica secondo me che parte da un rosic di base quello non lo so però di base può pure essere vero come non vero no ma è sempre stato tema di seguono solo perché parli male degli altri pure a noi ce lo dicono cioè dire ti seguono solo per e ti inventi una cosa banale per far capire che quella persona o creator non vale niente è perché stai rosicazzo più che altro quello che dico io che ci vuole un costrutto più solido e questo costrutto non esiste uno se non conosci la persona di cui parli ma ne parli facendo finta di conoscerlo di conoscere le sue influenze di come si comportano le persone vicine a lui la sua condizione clinica quello che fa nella vita la sua alimentazione banalmente perché ho letto pure ma lui è un personale altrimenti cosa dovrebbe dire ma che cazzo vuol dire ma secondo te ma secondo te un medico ok potrebbe fare una diagnosi basandosi sulle tue storie instagram o sui tuoi tiktok sulla tua condotta di vita cioè se vede magari una storia dove tu metti l'orario x che fai in discoteca cioè lui può farsi un'idea di come vivi lui ha messo dei tiktok dove mangia una pizza a parte che a volte magari fa un boccone manco mangia tutto non è neanche di quelli lui non ha come contenuto principale il cibo questo deve essere chiaro molti hanno pensato di sì quindi non è neanche un youtube anche io eppure lì avevamo criticato molte cose dette su di lui in maniera impropria però non è che lui banalmente io avevo un video mi ricordo su tanta ipocrisia avevi perfettamente ragione infatti però il fatto qual è che lui non ha intanto come principale content quello quindi non c'è manco la roba oh però tengozzi la gente te imita neanche quello perché non mi pare e soprattutto ma tu come cazzo fai a dire questa è una condotta di vita scorretta se vedi due tiktok di lui che sta al ristorante ma che ne sai poi certo la persona con un grosso sovrappeso sicuramente non avrà uno stile di vita eccezionale ma non c'è bisogno di mettere la videocamera primo secondo tu non conosci neanche le sue patologie non sei un cazzo non lo sai non lo puoi sapere poi alla base sicuramente ci sarà stato nel corso della sua vita perché è ovvio il meccanismo quante calorie introduci evidentemente troppe magari nella tua vita hai avuto una condotta scorretta vabbè ma quindi poi anche nel secondo video effettivamente vi ricordate che lo inizia facendo la classica cosa in bianco e nero ponendo una contestazione fittizia che in realtà non esiste in realtà sbugiardandosi dandomi ragione lo stai facendo solo perché tanto adesso è il momento in cui si fanno like facili visualizzazioni facili stai sfruttando la cosa è questo tra l'altro Raponi ha detto che fa il food blogger ho detto food blogging che non è vero non fai nulla di nuovo tra i food blogger ma lui anche vuole fare questa cosa è una critica che magari sicuramente c'è qualcuno che lo dice a lui e si sta sfogando come la classica proprio meccanismo della violenza ricevo violenza la devo ridà lui fa food blogging magari no lui fa delle battute lui essenzialmente fa commentari chiamiamolo così e anche qualche intervento io pensavo da come hai detto te è plausibilissimo che gli dicano anche a lui perché lo dicono anche a noi non porti nulla di nuovo quindi tu rosichi non lo accetti e devi trovare qualcun altro che non fa nulla di nuovo perché così non sei te lui essenzialmente alcuni vabbè sono probabilmente dei freebooting dei video esteri in cui lui sta lì e aggiunge ma c'è presente quella cosa c'è presente quel meccanismo umano proprio che tu magari ti danno del fallito o ti danno una cosa dello stronzo e tu cerchi quello più fallito di te quello più ciccione di te ti danno del ciccione quello più brutto di te si può anche questa cosa trasferire su campi diversi cioè in questo caso tu dicevi foodblogging no però magari a te danno del fallito per come quello che dicevi su De Noi scendo pure dal povero qua Flavio cioè voi parlate solo male dell'artri è un modo per sminuire il nostro lavoro se noi facessimo lo stesso con che ne so Blur ah ma tu sei buono solo a giocare o a Grambaud solo a portare gente in live le puttane no questo sarebbe il processo di transfer no cioè ricevo una critica stupida critica un attacco stupido che è un bilancio diciamo del mio lavoro ma non solo c'è anche una componente moralistica spesso e allora io lo devo riflettere su altri è quello è il classico non abbassarti al livello non so se sia il caso di Flavio qua dicevo in generale se avessi fatto nuoto ti portavo al nuoto ciclismo ciclismo io però mi occupo della palestra Bavaro io ti offro i primi tre mesi gratis di fare se tu scegli una palestra in Italia i primi tre mesi ce li offerti da me se tu riesci a cambiare il tuo fisico mi rendrai buono glielo stai aiutando per il suo buon cuore ma questo potrebbe pure essere un insulto per qualcuno uno potrebbe pure dire ma io che me ne faccio dei tuoi tre mesi di palestra offerti ma pago da solo abbastanza c'è pure detto qui proprio il fatto di pagare tre mesi di palestra e te lo dico in un video su youtube impacchettato così non è di buon gusto sì sono d'accordo questa è la mia poi i medici hanno detto che deve far prima una dieta perché sto un po' a seguire che sta a fare l'allenamento con un altro personal trainer e ora deve far prima una dieta perché è pericoloso partire la palestra di corpo ma che gioco è nel senso stiamo a giocare al gioco delle parti dell'internet e stiamo a parlare Davide pure questo non è molto chiaro e tu non puoi importi hanno scritto in chat che ovviamente non è l'unico che ha fatto sta cosa quindi è anche mi posso dire un po' non mi viene in mente è un po' vabbè non mi piace sta cosa che è una moda pure questa non è neanche un pensiero originale sto fatto di offrirsi come personal trainer cioè non è è banale quello che ho detto quando è venuto qua a Bavaro gli avevo detto io non ho visto il video di Raponi però dall'esterno mi è sembrata quasi una lotta un duello ok per vincere la star del momento cioè per accaparrarsi la spotlight la spotlight di quei tre mesi del Bavaro no io ho detto dall'esterno poi ovviamente magari non è così lui comunque adesso si sta allenando con quest'altro ragazzo sì ovviamente avranno fatto i controlli del caso è chiaro che per iniziare una preparazione devi devi se sei una persona seria insomma se sei seguito da qualcuno di serio devi ovviamente prima farti determinate visite devono dirti cosa puoi fare non puoi fare perché la condizione ovviamente è limitante questo è indubbio e ovviamente anche in piano alimentare ma non è che lo devo insegnare io questo mi sembra al minimo ma non lo so anche qua ok fa sta proposta vabbè qualcuno dice genuino non lo so raga di base è una modalità sbagliata è proprio un video che è costruito sul nulla che trasuda ignoranza e secondo me necessità di realizzazioni in termini di tempistiche si può definire anche un video opportunista assolutamente sì e prima che arriva qualcuno che mi scrive no lascialo fare selezione naturale può fare quello che gli pare eccetera eccetera forse non hai capito se io posso aiutare questo ragazzo con un semplice video io lo faccio ben volentieri questo ragazzo sta rischiando la vita io non ho mai visto un ragazzo di vent'anni con una condizione del genere mi sono imbattuto l'altro giorno su tiktok e ho detto cazzo ce lo farei un video se riesco a fare un video riesco ad aiutarlo ben venga e voglio lanciare questo messaggio a tutti quelli che hanno tra virgolette paura di iniziare palestra o hanno timore di iniziare qualsiasi attività fisica perché non si sentono comodi col proprio corpo e sono sicuri sta a far bene in fame Bavaro essere giudicati da altri raga vi posso dare la mia parola se entra una persona in sovrappeso in palestra nessuno gli punterà il dito contro nessuno lo prenderà in giro anzi ti dirò di più oggigiorno dopo 15 anni di palestra ok a me non mi motiva quello più grosso di me a me non mi motiva quello che spinge più di me non mi motiva quello che sta più tirato di me non mi motiva quello che stacca più di me o che spanca più di me non me ne frega un cazzo come di questo a me quello che mi motiva oggi giorno è vedere un ragazzo motivato nel migliorare se stesso se io vedo un ragazzo in sovrappeso in palestra che ha voglia ma non è che ma palestra palestra è arrivata palestra che la chiesa no è il dio non è che uno può anche vivere la sua vita al dottor Bavaro tranquillamente cambiando ed evolvendosi non per forza dimagrendo poi che lui stia scegliendo di farlo per la sua salute con un dietologo è giusto ma tu non puoi imporre la tua visione come è giusta su come migliorare la vita di una persona parte il fatto che poi vabbè questa è una cosa purtroppo comune a molti video del buon Flavio poi si incazzerà però amen tanto ormai qua ogni giorno c'è qualcuno che si incazza amen ragazzi purtroppo devo dire quello che penso per rispondere va bene come al solito rispondesse facesse quello che vuole poi venire ospite ma l'abbiamo detto anche nel su live cioè veramente noi no ma che so per dire una cosa che riguarda più video suoi cioè che purtroppo questa è una cosa che fa spesso cioè c'è il momento pippone retorico insopportabile che è effettivamente di una banalità estrema qua voglio far cruciani cioè proprio e spesso dice anche delle cose che sono dei luoghi comuni oppure un'esperienza individuale no dice vabbè ma nessuno ti prenderà in giro anche qua non sto parlando delle intenzioni magari lo sta facendo veramente per cercare di aiutarlo non lo so non lo voglio dire perché non lo so veramente non lo conosco Flavio io non lo separo il discorso umano però anche qua dire ma nessuno ti prenderà in giro ma non lo sai Flavio non lo sai in realtà spesso succede purtroppo e ci ho lavorato pure io dieci anni in palestra purtroppo succede e come se succede ed è un limite gigantesco di persone con una fisicità magari non canonica persone troppo magre persone troppo grasse spesso hanno paura di andare in palestra per questo per il giudizio ma anche chi ha delle imperfezioni fisiche meno evidenti magari hanno paura a spogliarsi quindi non lo fanno nello spogliatoio cioè quindi chiaro che queste cose magari se vuoi dare un messaggio motivante puoi evitarle però allora non dici manco questo perché non è la realtà poi non è vero che non verrebbe giudicato è una cazzata poi ripeto uno magari lo fa con l'intento di motivarlo eccetera però qui non si sta dicendo tu hai bisogno di un trapianto di organi ti offro i miei ok cioè c'è una richiesta dall'altra parte io mi offro come era successo con Don Vito tipo per esempio Don Vito non posso pagarmi questa cosa ok ti aiutiamo ok l'ha una richiesta e tu rispondi è imporsi su un altro tu stai già decidendo anche se lo fai a modi proposta però che lui ha bisogno di questo questa qua cioè so troppe tutto a lui di quanto è buono lui di quanto è bravo lui sono cose che magari le fai per il bene ok però secondo me lui se è effettivamente un esperto di questo settore dovrebbe saperlo non si lavora così con pazienti che hanno delle patologie patologie che hanno anche a vedere a che vedere molto con la sfera psicologica non si lavora in questo modo questo non è il modo una persona che ha un DCA un disturbo del comportamento alimentare o una condizione fisica di un certo tipo non viene esposta in questo modo con illazioni o presunzioni sulla sua condotta sulle sue amicizie in un video di 400.000 views non si fa non si lavora così e dovrebbe saperlo dovrebbe saperlo DCA disturbo comportamento alimentare pure la cosa che dice i tuoi amici ti dovrebbero stare surfiato sul collo non lo puoi sapere ma oltre quello che infatti non puoi sapere se è giusto l'approccio non puoi sapere se già lo fanno se ci hanno già provato non lo puoi sapere ma il fatto pure di dare un brutto un brutto incitamento a tutti quelli che hanno un amico obeso se sei un vero amico gli devi stare con il fiato sul collo no ragazzi non lo so direi di essere suo amico probabilmente cioè un brutto esempio un vero amico lo farebbe quindi uno dice io non so non conosco non conosco le qualifiche qualcuno che non l'ha mai fatto oppure che non c'è mai riuscita ma infatti dico mi stupisco perché l'approccio di un professionista non è questo io non so io non conosco i titoli di Raponi non ne ho idea e non mi interessa è la classica frase di quello che dice ah vedi ma se sto io con quella ragazza la faccio diventare una principessa sarà la più fortunata del mondo quelle sono persone che non sono mai state con una donna ma infatti il messaggio è sempre capisci il messaggio è sempre io sono un grande se ci vede lo è io ma infatti esattamente per quello che dicevamo prima sul principio di autorità io mi disinteresso delle qualifiche di Raponi che siano eccelse o zero è sbagliato punto questo approccio punto è scientificamente sbagliato anche se lui fosse il miglior personal trainer nutrizionista kinesiologo della galassia 700 campi diversi sarebbe comunque sbagliato questo approccio qua che mi motiva più in assoluto non c'è nulla che mi motiva di più di quello quindi Bavaro se pensi che è troppo tardi non è mai troppo tardi se pensi che è troppo tardi che ormai hai raggiunto una condizione fisica dove non puoi più tornare indietro io ti do la mia parola che non è così anzi ti dirò di più se hai bisogno di aiuto contattami scrivimi su Instagram sono più che invogliato di poterti aiutare d'accordo io voglio che tu ti rendi conto del pericolo che stai passando perché se io guardo ecco questo video dove vedo come tu cammini tipo questo qui tu a 20 anni non ti puoi permettere di muoverti in questo modo e non è assolutamente per prenderti in giro questa cosa è per farti realizzare il pericolo che tu stai correndo non lo sa serve lui e quindi possiamo poter camminare per l'intero io voglio realmente che tu capisci e non solo tu di tutte le persone che si trovano in una condizione fisica del genere o si avvicinano in una situazione di sovrappeso del pericolo che state correndo io sono molto curioso di leggere i vostri commenti non ce l'ha mai detto nessuno in vita sua guarda Flavio in 25 anni di vita non si sarà reso conto di come cammina di come si siede di come si alza gli serviva sto video ma meno male penso che sia questo buon cuore anche se siete ragazzi come il dottor Bavaro ma senza 5 milioni di visualizzazioni scrivetegli comunque penso che avrà piacere a ospitarvi nella sua palestra è vero cazzo ha a cuore questa condizione nell'essere umano scrivetegli ragazzi sovrappeso con due follower mi raccomando che non ve costa tanto è sempre molto apprezzato se vuoi risparmiare sul tuo carrello Prozis utilizza questo codice qui e se vuoi ricevere il ricettario o un programma di allenamento gratuito basta che mi mandi lo screenshot del tuo ordine e mi lasci la tua mail via Instagram ragazzi noi siamo al prossimo episodio io vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti ciao King torniamo a noi non mixa di cose come predisposizione per ingrassare le idee sono un po' più chiare diciamo rispetto a mezz'ora fa possiamo vedere questo video con un'idea più complessiva ginecomazzita non è questione di predisposizione cosa non mixa di cose come predisposizione per ingrassare chi te l'ha detto questa cosa ginecomazzita non è questione di predisposizione per ingrassare ma è un soprannome di qualcuno è un nomignolo era una grande battuta è certo perché riferimento alla ginecomastia ma si riferisce a chi? non lo so a Jans quell'altro? no a Bavaro che si è autodetto che ha una predisposizione per ingrassare lui gli ha risposto chi te l'ha detto chi te l'ha detto ed è un nomignolo è un nomignolo per dire comunque la parola ginecomastia per far pensare alla gente a uomini con la ginecomastia in questo caso forse è un perculo diretto a Bavaro no non a Bavaro non lo so non si capisce a questo Jans quello mi è venuto in mente fammi sentire ginecomazzita non è questo boh non lo so leggete la chat porco dio stanno a dire scrivono Jans ma non ho la certezza è un'ipotesi ok vabbè predisposizione per quello mi è venuto in mente ah perché è Zita ok perfetto quindi sì è un perculo all'altro ragazzo quello guerra tra popompa non ci interessa è un nomignolo per prendere per il culo il ragazzo che adesso lo sta seguendo questo Giancarlo Zita che a dire di raponi sinceramente non ho visto il suo seno ha la ginocomastia i suoi vettorali per ingrazzare adesso non so quali siano state le tue problematiche ma quella principale è del perché tu parliamo gergo hai mangiato più di quanto bruci sei stato in surplus calorico per un lungo lasso di tempo perché se tu mangiassi meno di quanto bruci pensate ma sai che non lo sapevo sai che non lo sapevo interessante quindi io il grasso che ho in più ce l'ho in più perché ho mangiato in più tante volte ho accumulato grasso non mi è spuntato perché io ho pensato spesso ma non è che quando mi metto a letto mi è grasso questo mi sa che ha visto sto imparando il corpo umano incredibile probabilmente io non ho dormito per tanto tempo perché pensavo di ingrassarmi quando dormivo perché ha visto che me svegliavo e me vedevo più gonfio io ne ho detto ma ne ho grasso invece è quando mangi incredibile invece è perché ho mangiato più di quello che dovevo e quindi ho accumulato grasso c'è sta c'è sta incredibile non è evitabile no non è evitabile assolutamente perché sottolineare determinate banalità come abbiamo già detto prima nei confronti di una persona di questo tipo non serve a un cazzo se non a si ma anche perché poi lui scherza cioè nel senso mi senti pure a Simone perché secondo me gli apre un mondo pure a lui eh perché so cose che in realtà non si sanno Bavaro ha risposto così perché comunque era agitato non sapeva che dino non per l'asso di tempo perché se tu mangiasse meno di quanto bruci non ti troveresti in questa condizione fisica caro Guglielmo è una cosa stupida è arrivata un attimo in dietro sì vabbè l'ha sentito vabbè vabbè una verità assoluta magna meno quello che dice Angrasso magna de meno basta magna de meno solo poi se vogliamo fare i seri al di là del del giusto per culo a questa roba non è solo eh questo cioè ovviamente come ho detto prima è ovvio che una persona che arriva a pesare x chili grazie Fire eh ed arriva ti dirò forse ha mangiato troppo ma certo ma è ovvio che una persona che arriva ad un forte sovrappeso indubbiamente avrà avuto questo questo surplus calorico prolungato nel tempo questo è ovvio ma proprio per quello che vi dicevo che sono anche delle problematiche da gestire diversamente perché perché ci possono anche essere delle responsabilità non dirette banalmente bambini che vengono alimentati malissimo e a 14 anni 13 anni sono già obesi sì perché magari sviluppano delle abitudini alimentari mal sane abitudini scorrette e molto spesso fino ad un anzi nel qualsiasi eh nel senso che di base l'alimentazione che ha un bambino non la decide il bambino la decidono i genitori quindi l'alimentazione scorretta con magari delle componenti genetiche di un certo tipo o uno stile di vita di un certo tipo magari se è un bambino che sta sempre a casa quindi anche lì il surplus calorico c'è meno perché stai fermo no? quindi non bruci non puoi avere un deficit anche ormonale eh quello va oltre le abitudini ma ci sono tanti problemi ci possono essere ecco il cortisone quindi dei dei problemi diciamo farmacologici ci possono essere dei problemi tiroidei lui ha detto è impossibile che ci che ci siano delle cause perché il Bavaro diciamo la verità il Bavaro ha ridotto un po' così perché come avevamo già visto da Cruciani era in evidente difficoltà quindi Cruciani ha detto ma perché mani troppo lui ha fatto la predisposizione all'obesità che vuol dire tutto e niente però potrebbe esserci come stai dicendo ora qualcosa di ormonale ci sono delle componenti certo che puoi avere un deficit anche magari del testosterone quindi magari puoi avere meno massa magra ed avere più predisposizione verso la massa grassa tantissimo dipende dallo stile di vita ma qual è il punto perché parlavo della dell'adolescenza o dell'infanzia perché lì non sei neanche tu padrone delle tue scelte quindi può succedere in molti casi accade proprio con obesi giovani piccoli può succedere a un certo punto che nel momento in cui tu puoi scegliere la tua condotta alimentare la tua la tua condotta di vita in generale magari è troppo tardi non è troppo tardi in generale puoi sempre dimagrire però è una condizione più difficile perché perché hai creato tanti tante cellule che accumulano in grasso perché hai una pelle magari che si è dilata da tanto quindi anche se dimagrisci ti può rimanere questa cosa qua i lipociti come dicevo ci sono tanti fattori perché ormai sei abituato a quel tipo di introito calorico perché sei abituato a non allenarti quindi anche a livello muscolare non hai fatto niente il tuo metabolismo basale è una merda quindi ci sono tanti di quei fattori che veramente potremmo stare qua fino a dopodomani più ripeto Gianluca parlava di farmaci certo puoi dover prendere dei farmaci che possono distruggerti anche qua il metabolismo o farti ingrassare puoi avere dei deficit ad esempio T3 T4 tiroidei quindi ci sono tanti fattori tanti fattori sedentarietà fa parte dello stile di vita e anche là puoi non deciderlo tu magari i tuoi genitori non te fanno fast sport mai tu poi decidi di farlo ma hai già 13 anni sono 13 anni di vita ho sentito anche un infortunio uno si rompe la gamba ingrassa sono proprio infiniti fattori che sicuramente Flavio Raponi non può sapere ma poi sta a parlare di niente perché lui ha risposto così perché era agitato ma certo ma è ovvio è inutile andare a prendere quella frase e tutto questo discorso andare a prendere solo le parole non concentrandosi sul mood del contesto e poi perdersi metà della realtà predisposizione obesità ma che dice predisposizione obesità ma è ovvio che lo dice perché era agitato ma legge la situazione ha detto pure io mangio che dice io mangio solo stellato non mangio grasso ma è ovvio che scherza ma c'è a parte che ripeto la disposizione all'obesità può anche essere vero ma è generico grazie alcune cose che abbiamo elencato adesso le possiamo ridurre con predisposizione a però si pure abiti entro a bere il bagno per disabili disponibile aperto perché oggettivamente tu dovresti andare in un bagno ma mai dove fai in bagno non me ne frega io odio i bagni pubblici come odio i bagni pubblici ma non sono un tipo di andare in bagno pubblici mi fanno schifo ti fanno schifo se ne serve però ti fanno schifo i bagni pubblici eh sì io uso solo il lusso ma che cazzo vuoi di lusso ma i bagni pubblici sono sporti ma magari per te sono così i bagni pubblici ma per me no ma per me no ma per me nell'analizzare a fondo vabbè perché ha impostato il canale così grazie Matteo ma infatti quello che dicevo lui purtroppo con tutto che mi sta anche simpatico fa dei video superficialissimi eh anche altri video dove analizza boh adolescente si fa di testosterone a 14 anni cosa succede? sta lì aggiunge commenti inutili al massimo alle volte traduce dei video esteri fa un lavoro di traduzione ma non è un lavoro di analisi sì sì ma a me sta molto molto proprio basso come tipo di contenuto analitico divulgativo io ovviamente cioè sono molto più vago perché vado sul non verbale mi rendo conto ma il modo in cui sta guardando il video mi desta emozioni strane cioè come ho detto prima cioè lo sta vedendo non real non lo sta a vedere veramente capito lo sta a vedere in modo funzionale capito in modo opportunistico sì sì ma diciamo che ecco da questo punto di vista è anche bravo cioè lui fa ma la tazza è vuota veramente l'ho letto prima no non è vuota dai ha bevuto c'è la bustina del tè solo la bustina te pare che fa finta dai ma poi anche fosse non sarebbe un problema no no tra l'altro lui è molto bravo anche a fare titoli clickbait copertine a costruire video che generano indignazione e te lo dico perché conosco a fondo il suo canale quindi ci gioca con quelle energie capito con quelle indignazioni io andavo a creare video che fondamentalmente non ti aggiungono nulla di concreto non c'è un vero spessore di analisi riflessioni solide però ti creano una reazione ti fanno cliccare di pancia per confermare comunque quello che già pensi assolutamente sì perché lui comunque il messaggio c'è comunque e chiunque conosca un po' dei suoi video se ne rende conto e vi dico nonostante questo spesso me li vedo pure mi metto un sottofondo ma poi anche un commentary cioè capito lui che dice la sua in maniera ripeto non strutturata che perché a molti rompe il cazzo tipo quello che famo noi che ora so so e 7 e 20 e 5 e 20 eh sì e 17 e 20 so e 17 e 20 so due ore e mezza che stavamo a fare i pipponi per molti è una rottura dei cazzo però oggettivamente questo è un contenuto che non ti lascia niente se non ecco una componente emotiva a quale volte può essere positiva può anche essere motivato da alcuni suoi video quindi può essere positivo altre volte indignazione altre volte sdegno posso aggiungere un layer è una componente sia emotiva ma che fa finta di non esserlo poiché si maschera da ragionamenti che in realtà se beh a vedere nel nocciolo sono un po' sterili assolutamente sì più andava avanti la puntata e più mi sentivo in imbarazzo per Guglielmo sia come lo trattavano e sia come cercava di medesimarsi in questo personaggio che io trovo che non gli calzi per nulla poi con questa qua è una mia opinione va bene per un video tiktok il suo personaggio con il quale ha fatto successo fino a mo' a me fa ridere poi è passato a non sapere come si chiama a chiamarlo per nome e pure questa è una tattica bravo comunicativa ora lo chiama per nome perché gli vuole bene è suo amico e tra l'altro nel video prima era famoso solo per il peso ma ha capito che c'è un personaggio evidentemente si è un po' informato perché come prima abbiamo notato non sapeva neanche il nome in questo video evidentemente lo ha conosciuto un po' meglio ha detto scrivetemi nei commenti come si chiama ah mazza non fa una ricerca su google mi sembra di aver sentito questo prima ostentare ricchezza come fa eccetera eccetera ma qui veramente mi sono sentito in estremi me l'imbarazzo primis perché la buona certa mi comincia a diventare palloso il personaggio e secondo è molto cringe poi questo è un consiglio che ti ho auguri il mio consiglio è resta te stesso non cercare di fare questo personaggio perché il mio punto di vista ecco non ti si addice poi fai come cazzo ti pare ok questo è semplicemente un consiglio ma quanto spende per vestire era cringe non sapere leggere una situazione una stanza non lo so non è cringe perché è il personaggio è cringe la situazione sì per quello che si è creato con Cruciani l'abbiamo spiegato noi però mi sembra che lui stia troppo incentrandosi su Bavaro a sentire quello che sta dicendo che sta in difficoltà ma non capisce le reali implicazioni e motivazioni di mood capito no e quindi gli manca un pezzo ma quanto spende per vestire diciamo vado sempre sui 2-3 mila k vestito cioè di outfit al mese non è cringe il personaggio di per sé è cringiato lui e quindi capito gli escono fuori queste frasi con la voce tremolante ma non è capito non è perché il personaggio cioè come fai a pensare che è colpa del personaggio è colpa della situazione no guardate vede la live dove abbiamo analizzato questa clip noi allora quando dico il personaggio ecco qui mi hai dato un perfetto esempio 2-3 mila k lo sai quanti sono penso che tu intendessi 2-3 k perché 2-3 mila k sono 2-3 milioni ma è davvero regà è una precisazione importante che andava proprio registrata e messa su internet tu hai sei largo così perché detto con tutto rispetto sei un ciccione del cazzo diciamo la verità ma si è un ciccione è un ciccione no del cazzo no perché sei un ciccione sei un super obeso sei un super obeso quello non si trova c'avrà il pene sepolto mi ha detto lui c'avrà il pene sepolto sai cos'è la sindrome del pene sepolto allora Cruciani come ho detto io sono molto per il black humor conosco il concept della zanzara eccetera ma qua te l'ho costato la testa te cazzo te li potevi risparmiare questi insulti te cazzo te potevi risparmiare insulti gratuiti esatto dopo un insulto bellissimo bellissimo non buttate giù non è che abbiamo 13-14 anni che siamo elementari e insultiamo quelli che ecco in sovrappeso quindi trovo veramente che stessi sogna farli in un modo più arzicocolato a cruciare vai a diciccione di merda del cazzo e fai parlare la vocina basic ignorante ti fa fare una brutta figura quella vocina tu prendila non abbandonarla perché è la verità sei tu quella vocina però trova mille modi per imbellettarla meglio tanto il messaggio esce lo stesso ripeto testa di cazzo io poi sono un po' come te ma è un insulto gratuito mi hai detto che non si fa ecco in sovrappeso quindi trovo veramente che sei stata grandissima ripeto testa di cazzo io poi sono un po' come te sono diretto e seconda cosa più importante non sai chi hai di fronte cioè non sai se il ragazzo dico ipoteticamente ok abbia dei problemi psicologici questa cosa è stata molto fastidio non sai se torna a casa vuole fare delle cose brutte ma pensa c'è prima dell'altro video tra l'altro ma è quello che ho detto prima io come critica il suo video vale pure per lui sarebbe dovuto valere per lui anche nel video antecedente comunque si vale per entrambi ovviamente vale per tutto certo che vale anche per Crucian è quello che abbiamo detto non ti puoi permettere di dire queste cose tanto che chiude diciamo il colpo a testa dammo pure un colpetto a Bavaro niente non un'altra niente non insiste tipo fa sempre con lo stesso o un'altra cosa Bavaro carissimi scazza fatica avete già sentito parlare dello scoop della settimana l'argomento scotta non posso dirvi di più è un gruppo telegram le avventure di Monko ognuno gioca in base alle proprie possibilità il gioco crea dipendenza no non ce credo quindi è pure un altro qua è criticabilissimo è pure un altro di gioco d'azzardo non è manco lo stesso è caduto all'interno della merda Bavaro non so se sia stato culo storie che riposta ma in mezz'ora ho fatto più di 400 non si sa cosa ma scusa sei sicuro che sia legale sta cosa? ovvio che lo è ma che domande altrimenti manco l'avrei messo vi consiglio di approfittarne perché non so per quanto ancora posso tenerlo questa roba è una mondezza e mi hai preso anche per il culo ma come dicevamo prima non me la prendo sul personale perché non me ne frega un cazzo ma sappi che questo è veramente il modo migliore per disintegrare la tua carriera te l'abbiamo già detto continua pure così questa è la cosa negativa che fai queste sono quelle cose criticabili non il fatto che sei grasso questi grazie è questo è quello che infatti abbiamo detto sia quando è venuto qua sia nella live che abbiamo commentato con Cruciani comunque una tristezza sì una tristezza ripeto poi voglio dire non è un amico nostro ok l'ennesima persona che mette davanti alle videocamere ok gli abbiamo dato il colpo mi viene da difenderlo un pochettino perché mi sembra appunto in esperienza gli errori tipici di chi c'ha un buco non è in esperienza perché gli ho detto tre giorni fa esatto ma l'ha messo lui cioè non è che io l'ho detto io quindi lo deve fare in quanto mio figlio e lui ci ha dato ragione esatto 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 e poi il giorno dopo l'ha fatto un altro e mo questo è un altro ancora sì capito quindi non è il fatto che dicevo non lo sapevo l'esperienza non lo farò più cosa che ha già detto sì poi l'ha rifatto il giorno dopo mi stavo pure appoggiando a una cosa che hai detto te tu hai detto mi ricorda tutti gli errori che si fanno all'inizio quando non sai che cazzo fa questo mi è venuto però appunto se tu riconosci che è stato un errore cosa che lui ha fatto non lo fai più lo ha rifatto già due volte con due giorni ora no non ha proprio più senso nulla ora sta perseverando sicuramente gli ho chiesto anche ieri Grambaud Grambaud guarda le nostre live ha fatto bene a chiederglielo ha fatto benissimo o anche se non le guarda anche se non le guarda e l'ha visto dalle storie ha fatto benissimo perché questa è la roba che va veramente fatta notare e al pubblico e va chiesta al Bavaro no le stronzate da bilanci davanti a centinaia e migliaia di persone e io fossi sì facciamo una tirata fino alle 21 e poi inizia l'live delle 21 c'è Creepy Cerbero eh sì sì che Marco c'è Creepy Cerbero quindi fino alle 23 e 30 let's go ma pure mezzanotte queste cose in questo modo come le hai fatte soprattutto davanti a centinaia e migliaia di persone e io fossi in te chiederei scusa a Guglielmo e non mi sorprenderebbe se lui le scuse non le accetti adesso passiamo alla seconda parte dove veramente chiarite queste cose dove ho visto Guglielmo nel podcast del Cerbero e hanno parlato di me Marra anche te hai detto una cosa che mi ha fatto un po' sorcere il naso ti tirerei un po' l'arecchia ok perché no addirittura l'arecchia comunque ora c'è pace l'arecchia c'è pace per gli olivi qui vabbè però almeno l'orecchia ce l'hai libbata perché non penso che nessuno ti abbia mai dovuto tirare l'orecchia no quello no almeno l'orecchia non mi fa sta faccia anche te hai detto una cosa che mi ha fatto un po' sorcere il naso ti tirerei un po' l'arecchia ok perché guarda lo mio video interno no prima di fare questi commenti l'abbiamo fatto guarda meglio l'abbiamo fatto meglio meglio l'abbiamo fatto adesso pure qua non hai detto nulla ma infatti nulla nulla ma infatti il problema secondo me è che me l'ha detto per questo che io poi ho ricevuto questo segmento oggi che me l'hanno mandato su Instagram ma poi non ho visto il continuo quindi adesso boh capirò e poi siamo stati costretti a vederlo quel video però è peggio ha voluto che lo vedessi è peggio per lui perché in realtà cioè ci siamo resi conto l'esito è stato abbastanza drammatico per te comunque vediamo c'era critico sì critico diciamo eh però no prima dei vasti commenti stupidi cioè era critico sì critico diciamo vabbè sono uscito che mi volevo regalare tre mesi di palestra ah ho capito diciamo che si sono entrambi candidati cazzo penso che lo faccia capire io non ho bisogno che mi paghi tre mesi di palestra no e qual è il problema io ti voglio offrire tre mesi di palestra ma di buon cuore a parte il buon cuore io sono bravo qua ha tagliato ma c'è la live offri a qualcuno che ne ha bisogno come stava di Simone prima visto che Bavro non ne ha bisogno ne troverai altri ma guardiamo ma qua c'è la live integrale no io qua non ho detto nulla cioè semplicemente ho chiesto nella clip in cui si vede ma è stato critico con te era una domanda è stato critico con te e lui l'ha liquidato ma vabbè cioè che cacchè il gesto che volevo fare io non è per dire ecco te pezzente te soffri tre mesi di palestra ma io non capisco oggi giorno penso che sto sbagliato io cioè è come se tu andassi al ristorante e c'è un amico che tu vuole pagare la cena non è che ti paga la cena non è la stessa cosa perché se tu vai al ristorante col tuo amico il tuo amico è entrato in quel ristorante perché voleva mangiare al ristorante non è che tu dici ah oh mo ti offro il pasto a Caritas oppure oh ti è piaci 50 euro vatti a mangiare una pizza per alcuni può essere un insulto certo se poi tu vai a mangiare insieme ad un'altra persona e gli vuoi offrire la cena quello è un altro conto una persona ti chiede già lui mi presti 20 euro ma che cazzo c'entra se io e il tuo amico ti dice mi presti 50 euro ma te lo dico per esperienza personale ma per logica perché conosco il mondo mo secondo voi uno non ci potrebbe rimanere male pure per un gesto che stiamo ritenendo mo io do 20 euro a Marco dico Diego vatti a mangiare una cosa ma se dicevo ma che cazzo avete pensato penso che è un barbone ma vabbè io mi invoio scusate il cuore di uno stellato poi il buon cuore con questo gran cazzo di buon cuore il buon cuore la buona finzione vabbè lasciamo perdere il buon cuore di un rapone era semplicemente ripetiamolo lo ripeto un'operazione di collaborazione forzosa secondo me con uno che ti darebbe tanta visibilità e tanti numeri che in questo momento è in hype ripeto fallo con un ragazzo obeso questi tre mesi che non sono stati accettati da Bavaro spero siano ancora disponibili sempre in virtù del buon cuore diamoli a un altro ragazzo sovrappeso nella medesima condizione di Bavaro insomma credo che comunque il contenuto ci esce comunque fuori e il tuo buon cuore potrà esprimersi perché se no questo buon cuore che doveva da sti tre mesi pulsa li deve dare a qualcuno no? ti paga la cena perché ti fa piacere stessa cosa con me semplicemente perché volevo semplicemente aiutarti quindi è null'altro io dall'esterno dall'esterno l'ho vista un po' come una situazione un po' strana un po' strana un contendersi magari l'oggetto ah dici vabbè vediamo chi vince l'asta dall'esterno ti dico come è arrivata secondo me al pubblico poi ovviamente tu sì al pubblico un contendersi l'oggetto Marra innanzitutto il video l'ho fatto uscire uno o due giorni prima di quello di Ginecomazzita seconda cosa io nel video ho usato testuali parole io voglio voglio aiutare Guglielmo non ho detto voglio seguirlo anche perché io non seguo nessuno io non l'avrei neanche seguito Guglielmo voglio aiutarlo per aiutarlo cosa vuol dire consigli sulla palestra oppure non potevo aiutare nell'indirizzarlo di farsi seguire da persone esperte ok? che hanno diplomi su diplomi tutto qui io non ho mai detto che volevo seguire Guglielmo l'unica persona che qui ha vinto adesso è lui è lui che ha deciso allora tesoro mio io ho detto contendersi l'oggetto come il pubblico come ho visto io dall'esterno e anche dai commenti che è la realtà tra l'altro ma dove avrei detto lui vuole seguirti infatti cioè ti ha contestato una cosa che non hai detto no? era una tattica argomentativa dov'è? ma poi lei mettila la clip però pure ripetuto con la mano così ho fatto dall'esterno io non l'ho visto ciò che mi è parso ma dimmi di più Bavaro visto che sei arrivato nella mia trasmissione e io non lo sapevo quindi non potevo prepararmi hai citato tu Flavio Raponi e non avevo visto il video dimmi di più poi approfondirò esattamente come l'intervista ai Cruciani dimmi ma anche lì non l'abbiamo vista poi la recuperiamo e abbiamo fatto entrambe le cose per me è assurdo anche il non non ammetterlo sì lo vogliamo perché adesso è virale ma non c'è neanche nulla di male se vogliamo infatti ripeto ho detto dall'esterno mi è sembrato un po' anche perché come vedete tra l'altro la contesa tra i due c'è altrimenti non lo chiamerebbe ginecomastia coach c'è un po' di rivalità sembra non lo so un po' di shaming calcolando fosse vero o non vero sì ma c'è il duello no? sì mi sembra di sì ok almeno da parte sua eh altrimenti non lo prenderesti per il culo no? esatto ok quindi cosa vuoi contestare tesoro? niente abbiamo cioè tu hai detto una cosa secondo me reale ma tra l'altro ripeto premettendo io non ho visto il video di Flavio poi abbiamo visto oggi peggio però sono stato onesto cioè mi è piombata una persona in studio non lo sapevo ne posso vedere tutti i video del mondo avevo visto qualcosina ma dall'esterno ho mai detto che volevo seguire Guglielmo l'unica persona che qui ha vinto adesso è lui è lui che ha deciso di intraprendere questo questo cammino questo era il mio intento principale del mio video che lui si facesse seguire da qualcuno per migliorare se stesso tutto qui allora perché lo screditi Gianno? scusami scusami dovresti incoraggiarlo il tuo buon cuore adesso sarà eh per il competito ma come? il suo buon cuore però è per il bene ha trovato la sigla no? è certo ha trovato asilo perché Bavaro forse non è veramente per il bene del povero Bavaro forse è perché uno vuole il proprio bene esatto ma Romerito che non hai mai visto i video di studizio no al contrario li ho visti non avevo visto quello del Bavaro no ne ho visti parecchi ho pure ho pure spiegato alcuni pattern nei suoi video non avevo visto quello su Bavaro di solito schippo i video in cui ho un messaggio per te perché sono tutti con quelle impostazioni non ho visti in paio ho detto evito non è una gara con nessuno però diciamo che per una situazione come la tua è positivo che si crei l'occasione per mandare anche un messaggio pubblico sì no ha fatto proprio this Dave ha fatto proprio this Dave come la tua è positivo che si crei l'occasione per mandare anche un messaggio pubblico perché ovviamente ci stanno tanti ragazzi che stanno nella situazione del dottor Bavaro io voglio sapere ma non lo devi mandarti lo manda a Bavaro lo manda a Bavaro il messaggio non lo devi mandarti non ha capito sta cosa Dave si riferisce a Bavaro lo manda a Bavaro il messaggio sì ovviamente ci stanno tanti ragazzi che stanno nella situazione del dottor Bavaro io voglio sapere chi è questo tizio datemi il suo nome e voglio stringergli la mano ma perché non si informa prima di registrare un video cioè ripeto allora non è che tu stai in diretta su Twitch ok se collega uno entra Grimbo sai non te seguo però parliamo un po' chiacchieriamo oppure uno ti dice una cosa in diretta oh ma hai visto il video di quel tizio che costruisce le case a Timbuktu no parlamene me lo vedrò no cioè lui scrive un video e sì non riesce a facer il vero podcast Dave Reva non è una cosa grave però lo fa sempre ma perché e ci tengo a specificare che Dave manco gli ha dato ragione tra l'altro infatti lui si è appropriato di sta cosa di contestualizzazione ma poi ovviamente sti cazzi del nome però Dave me farite cioè l'enfasi me farite voglio sapere chi è questo ragazzo oppure scrivetemi in DM come si chiama c'è Google me farite l'enfasi capito la situazione del dottor Bavaro io voglio sapere chi è questo tizio datemi il suo nome voglio stringergli la mano lui ha detto esattamente quello che io volevo fare tutto qui ragazzi sono super curioso di dire no ma è reazione no si è appropriato di una frase di Dave per far tipo fince per far far capire al pubblico che qualcuno gli ha dato ragione al podcast ma Dave si riferiva a quello che fa il dottor Bavaro quindi era era per concludere il video capito è una cosa che gli serve sì esatto per dire c'ho ragione sì 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 perché deve chiudere il video con la ragione è tutto a servizio è tutto per un obiettivo assolutamente d'accordo c'è ragione al 100% sono contento che qualcuno abbia parlato di Dave finalmente che di solito idrattano sempre male il poro Marco e il poro Dave oltre a noi ma a noi ci conviene dimmo qualcosa di spogliato poi sappiano sempre con te no no ma infatti meglio così cioè noi ci raccogliamo diciamo la siamo i frontman è giusto così però appunto almeno una cosa positiva la cosa triste però che in realtà l'ha detta perché serviva a lui cioè non è che ha fatto un genuino commento positivo verso qualcuno esatto gli serve sempre a lui sì sì eh vabbè purtroppo quello che mo mi chiede mi sta a far venire un po' di paranoia un po' di ansia è che se per quella frase te voleva dirà le orecchie uno per te starai capirai vabbè farà un video ma sì poi pure lui è un bel maestrino del ne abbiamo parlato per dieci secondi immaginiamo che ne abbiamo parlato per due spero che capisca che ovviamente è tutto non per attaccare lui sul personale ovviamente si parla di cosa succede su internet come ci si comporta su internet che effetti hanno i prodotti che facciamo anche noi cioè anche noi siamo aperti a critiche aperti alla discussione ma non è per inimicare perché noi siamo contro siamo una fazione diversa dalla tua no in realtà no siamo tutti esseri umani tutti colleghi anche ed è per questo che lo facciamo mi raccomando veramente no esseri collega pure a quello che abbiamo detto all'inizio tant'è che per fortuna che c'è anche una buona memoria qui tant'è che noi contattammo il buon Flavio Raponi se parlo te quanto è un annetto fa un bel po' di tempo fa forse più di un anno fa per organizzare una live con fisico spartano stavamo in caverna no no stavamo già qua era la roba gorilla era la roba gorilla però pure qua l'avamo visto quindi forse stavamo già qua però vabbè comunque l'avamo contattato e io comunque lo seguo tipo su instagram pure forse nel paio di volte ci ho pure parlato con Raponi quindi ci ho parlato solo in occasione per dire quindi anche qua esattamente come l'inizio per chi ci sta a seguire pazzo da E3 non è un discorso ci sta simpatico come dici tu le fazioni la fazione Bavaro la fazione Giancoccia la fazione Cruciani tanto noi ce n'abbiamo una per tutti volendo quindi non è questo il punto però come al solito ovviamente se vuoi venire per replicare tranquillamente ce lo scrivi e puoi venire se vuoi fare il tuo video cerca di essere onesto non metti solo i pezzetti che ti convengono come tweener poi per il resto siamo qui la fazione è il primo passo per la disonestà intellettuale anche la più comprensiva però è un'ideologia e per me appunto una fazione è anche essere cristiani dire sono comunista avrai prima o poi un blocco mentale in una situazione in un qualcosa perché non dovrai agire veramente distinto di coscienza ma dovrai agire in base a un codice quindi questo è un pensiero fugace di fine live ragazzi ci vediamo alle ore 21 per Krippi Cerbero con Il Conoscitore e Pela bella raga a dopo ciao che squali state arrivare è l'ho crocian grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti